Una buona giornata, prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati anche oggi tanti temi ma c'è la cronaca in assoluto primo piano in questa giornata perché il Veneto ha registrato due omicidi in poche ore, tra l'altro in zone molto vicine tra loro, Mel nel bellunese ieri sera dove un uomo di quasi 60 anni ha ucciso accoltellandola la madre di 88 anni che pare soffrisse di Alzheimer e questa mattina, poco lontano dicevo, Vittorio Veneto, provincia di Treviso in questo caso ma siamo sempre nella Pedemontana, un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa a coltellato sul divano di casa, pare al culmine di una vicenda, di una lite familiare, ci racconta tutto in diretta dal luogo di questo delitto e lì da questa mattina è nostro Lucio Zanato sul posto insieme a Nicoletta Rizzetto, buongiorno Lucio. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, non è un buongiorno almeno qui a Vittorio Veneto dove in via Rosolai in 2, qui alle mie spalle in questa palazzina si è consumato questo delitto di cui appunto hai annunciato. Riccardo De Felice è il figlio che in questo momento è sotto indagine per la morte del padre, il padre è Francesco De Felice di 56 anni, come hai detto giustamente tu è stato ritrovato dai carabinieri chiamati dalla moglie, ovvero da Adriana Scano in questo appartamento, questa mattina intorno alle 4.30. L'uomo probabilmente è stato aggredito alle spalle, è stato ritrovato con diversi fendenti di un coltello, pare un coltello da cucina e poi anche con una evidente chimosi sulla testa, pare sia stato colpito con un attrezzo ginico. Il figlio appunto in questo momento è in caserma, qui vicino nella caserma dei carabinieri di Vittorio Veneto perché è il principale indiziato di questo omicidio, è stato ritrovato in stato confusionale sul pieno rotolo di questo condominio. Da questa mattina ovviamente i carabinieri sono alternati all'interno per tutte le indagini intorno alle 11.30, la salma è stata portata verso l'obitorio e proprio mentre stava per essere caricata sul furgone appunto c'è stato un amico che si è avvicinato, ha posto una mano sopra alla cassa e noi l'abbiamo avvicinato, sentite cosa ci ha raccontato. A settembre era andato in pensione, lui si voleva godere un po' la pensione, ci avevano messi d'accordo per farci qualche giretto insieme, purtroppo questa disgrazia. No, una famiglia tranquilla, erano spensierati, si volevano bene, cosa si è successo stanotte? Il collega dell'esercito c'era in questa situazione? Sì, 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 lui era un ufficiale logicamente, era tranquillo. No, no, anche perché l'ho visto sabato, ero utile al posto, mi hanno fatto quattro chiacchie, non so cosa sia successo, non so, mi dispiace, non so altro. Comunque il figlio non è avvenuto niente? No, no, non sono più da niente. Ma loro qui sono di proprietà o ancora in affitto? No, proprietà, non sai. Da quanti anni è che vivono qui? No, da un po' di, non so, 2012-13, più o meno, l'anno. No, una bella famiglia. E il figlio cosa faceva? Stava studiando? Eh, il figlio si era laureato, studiava, poi ha trovato un lavoro e poi non so cosa sia successo, comunque, sì, so che ci dovevamo vedere, ieri ho pensato, guarda domani lo chiamo da farmi un giro, una passeggiata con lui, perché ogni tanto ci incontravamo per fare qualche o quattro passi così, ma poi alla fine ci è arrivata questa brutta notizia e niente, poi non so altro. Lui gli piaceva la montagna, fare ben Dio, tutto, è una brava persona, ecco, è una bella famiglia. Mi dispiace tanto. Francesco De Felice, 56 anni, ufficiale prima qui a Vittorio Veneto, poi aveva prestato servizio al Simic di Motta di Livenza ed era appunto in pensione da un mese. Per quanto riguarda invece, così, le cause ovviamente sul posto il medico legale Alberto Furlanetto, noi l'abbiamo avvicinato ovviamente bocche cucite e il PM Romanelli che non ha rilasciato dichiarazioni. Da altri vicini si parla sì di qualche litigio, ma cose più che normali per una famiglia, quindi una famiglia tranquilla, molto probabilmente comunque ci potrebbe essere anche qualche disagio psichico, dico con ovviamente il condizionale perché sempre da voci al momento ancora non confermate, il giovane Riccardo De Felice, 22 anni, ricordiamolo, avrebbe dovuto come dire, affrontare una visita psicologica. Questo almeno si sta dicendo in questi momenti in cui si sta cercando di scavare un po' di più nella vita di questa famiglia. Comunque una famiglia tranquilla all'interno di una corte tranquilla qui in via, dicevo, Rosolaine 2 a Vittorio Veneto, praticamente alle porte della città. Tutto questo poi naturalmente lo racconteremo un po' meglio nel corso del telegiornale di questa sera. Se hai domande Lina? Sì Lucio, tu dicevi appunto che doveva affrontare una visita, è arrivata una nota dell'Ulss2 per completezza che chiarisce che il ragazzo non era in cura attualmente presso i servizi dell'Ulss2, ma tu stesso dicevi appunto che è stato trovato in stato confusionale sul pianerotolo di casa. Mi ha colpito una frase del collega, dell'ex collega, che dice chissà cos'è successo questa notte, no? Si è parlato forse di una lite al culmine della quale potrebbe essere successo qualcosa, ma in realtà pare che De Felice fosse seduto tranquillamente sul divano al momento in cui è stato accoltellato, no? Sì, sì, è stato ritrovato di fatto così. Poi appunto l'oggetto contundente per stordirlo è probabilmente questa efferatezza di un coltello da cucina che è stato utilizzato per sferrare diversi colpi sul suo corpo, almeno più di tre, quello almeno che siamo riusciti a percepire. Tra l'altro prima eravamo di fronte alla casemma dei Carabinieri, una ragazza, un'amica intima di Riccardo invece lo descrive come un ragazzo stupendo, uno studente modello, insomma una persona assolutamente tranquilla, da cui non ci si aspetterebbe mai un gesto in tal senso. Proprio per questo Riccardo si trova all'interno della caserma dei Carabinieri, almeno fino a questo momento, probabilmente è accompagnato anche dalla mamma, se ovviamente sarà il PM Romanelli e gli inquirenti a capire bene cosa è successo intorno alle 4 di questa mattina. Grazie, grazie a Lucio Zanato e allora vedremo i servizi, naturalmente gli approfondimenti questa sera. Di certo quello che colpisce anche in questo caso è che dopo l'omicidio di un'altra anziana a Conegliano, questo è il terzo delitto in casa da parte di un figlio nei confronti, se sarà confermata naturalmente questa tesi qui a Vittorio Veneto, nei confronti di un genitore sarebbe il terzo. Ieri sera, poco prima della messa in onda dei nostri telegiornali era arrivata la notizia di un altro delitto, quello che si è consumato a Mel, siamo nel Bellunese, anche in questo caso abbiamo il figlio maschio di una signora anziana, quasi novantenne che secondo la ricostruzione degli inquirenti ha ucciso con una coltellata al ventre la donna che stando agli ultimi aggiornamenti, le ultime novità probabilmente soffriva di Alzheimer, di demenza e poi si è tolto la vita tagliandosi la gola a trovare entrambi la sorella che abita poco lontano. Vediamo il servizio realizzato da Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Colpisce con un fendente mortale l'anziana madre 88enne e poi si toglie la vita, terribile fatto di cronaca in località Pelle Gaia, Mella di Borgo Valbelluna. Aurelio Monestiero, operaio di 56 anni, per motivi sconosciuti ha aggredito la madre Antonia Schiocchette da poco 88enne accoltellandola fatalmente all'addome. L'anziana non ha avuto scampo, la ferita profonda l'ha fatta cadere a terra priva di vita. L'uomo ha poi rivolto verso se stesso la medesima arma e si è tolto la vita. A fare la macabra ha scoperto la sorella del 56enne che abita poco distante e che ha rinvenuto i due corpi riversi sul pavimento l'uno vicino all'altra all'interno del magazzino prospicente la casa della madre dove pare che Aurelio Monestier si recasse per fare lavori manuali. Immediata si appurvana la chiamata al 118. In via Pelle Gaiai sono arrivati anche i carabinieri del reparto operativo di Belluno con i militari della compagnia di Feltre territorialmente competente e della stazione di Melle. Sono stati raccolti elementi utili alle indagini richieste dalla procura di Belluno che ha aperto un fascicolo. Sembra escluso il coinvolgimento di terzi perciò l'ipotesi giudiziaria sarebbe quella di omicidio suicidio. Nelle prossime ore sarà disposta un'autopsia sui due corpi. Conclusi i rilievi di legge le salme sono state affidate ai carri delle onoranze funebri per il trasporto alla camera mortuaria dell'ospedale. Aurelio Monestiere lascia la moglie e due figli. Chiudiamo per ora questa pagina relativa a questi due delitti e parliamo di un altro fenomeno di cronaca che stiamo trattando quasi quotidianamente in questi giorni, quello dei furti, dei furti in casa in particolare. Rimaniamo nell'Alto Veneto ai confini tra le province di Treviso e di Belluno perché a Cordiniano una 43enne si è ritrovata faccia a faccia addirittura in casa con i ladri al suo rientro. È stata strattonata e derubata di 5 mila euro e su questo stanno indagando i militari dell'arma dei carabinieri. È tornata a casa probabilmente prima ma mai si sarebbe aspettata di trovarsi di fronte due malviventi con il volto travisato da un cappuccio ma senza armi. Quando hanno visto la donna l'hanno strattonata facendola finire a terra. Il furto che si è poi trasformato in rapina è avvenuto intorno alle 10 a Cordiniano al confine tra le province di Treviso e Pordenone. La vittima è una 43enne che rientrando nella sua abitazione ha sorpreso i due individui che avevano in precedenza messo a soquadro tutte le camere. I due hanno minacciato quindi la donna facendosi consegnare i soldi che teneva in casa, ben 5 mila euro. Poi sono fuggiti a piedi nella diacente campagna. Immediata la chiamata al 112, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno immediatamente fatto scattare le ricerche dei due rapinatori. La donna non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Tanta però la paura. La casa della 43enne è un'abitazione singola priva di sistema di allarme. Indagini in corso. E poco lontano da qui a Cappella Maggiore, altra lista di abitazioni razziate dai ladri. Il nostro Barry Mason ha parlato direttamente con i residenti che tra l'altro hanno degli impianti di videosorveglianza installati nelle abitazioni di cui pare che i malviventi non si siano affatto curati. Hanno agito sotto l'occhio elettronico di questi sistemi di videosorveglianza. Vediamo. Qui era tutto chiuso, la luce era anche accesa, quindi quando sono arrivato a casa non avrei mai sospettato di trovare il disastro. Ladri scatenati tra Anzano e Cappella Maggiore. Tra le vittime è anche la titolare della Floricoltura Magia Fiorita, insieme ad altre tre case che sono state prese di mira dalla banda, composta da almeno tre uomini, in via dei Campi, dei Paolin e Calalta. La banda, una volta entrata nell'abitazione, è riuscita a disattivare l'allarme per poter agire indisturbata. Quella è la fotocellula del volumetrico, che purtroppo non era infezione perché quella in particolare è guasta, però hanno messo l'ombrello sotto per bloccare. Quasi nessuno conosce l'accesso da cui sono passati i ladri. Questo fa pensare che si tratti di gente della zona, oppure è possibile che sia stato fatto un sopralluogo nei giorni precedenti. Prima del colpo nell'abitazione dell'imprenditrice, la banda ha visitato la villetta della zia, il civico 8 di via dei Campi, e in seguito è arrivata in via dei Paolin, sempre nella frazione di Anzano. Qui, alle 18.30, hanno scassinato una finestra di un'altra abitazione. Io ero via, sono arrivata a casa alle 7.20 e su quel successo è successo, portavi a sfondare la finestra di sopra, in attenzione io portavi la roba, insomma, oro e soldi. Hanno forato la finestra, la parte del legno della finestra, che si vede rimasto il buco, sono entrati con un ferro e sono riusciti a aprire la finestra praticamente. Noi eravamo in casa, al piano superiore, non abbiamo sentito niente, non sono neanche venuti su perché non abbiamo visto cose spostate di sopra, probabilmente hanno dato un'occhiata qua, hanno visto che non c'era niente, hanno sentito a noi di sopra e sono andati via subito. Succede ogni anno purtroppo, in alcuni periodi più di altri, ci sono i furti, i furti sono uno dei reati più frequenti purtroppo ed è chiaro quindi che vanno messe in atto diversi tipi di attenzioni sia dai privati cittadini e sia dalle istituzioni. Così dunque il sindaco, ma un po' in tutto il territorio veneto, in tutte le province c'è massima attenzione da parte delle questure perché come tutti sappiamo con l'autunno e poi con l'avvicinarsi delle festività natalizie questo genere di reati purtroppo aumentano. A Montecchio Maggiore ci sono state molte chiamate di cittadini alla centrale operativa della polizia, motivo per il quale proprio il questore ha disposto alcuni controlli straordinari con l'obiettivo di verificare in particolare la situazione in alcuni appartamenti dove è molto alta la presenza di cittadini stranieri. Montecchio Maggiore, controlli straordinari delle forze dell'ordine disposti dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori che ha deciso di far eseguire alcune verifiche sulla base di numerose segnalazioni dei residenti. L'attenzione si è concentrata su alcuni edifici del quartiere di Alta e Ceccato dove la concentrazione e la presenza di cittadini stranieri è molto alta. A bussare alla porta di molti appartamenti gli agenti della questura di Vicenza in collaborazione con altre forze di polizia e il supporto specializzato del reparto prevenzione e crimine della polizia di Stato. Alcuni controlli sono ancora in corso, lo scopo è quello di garantire maggiore tranquillità ai cittadini rendendo più concreta la percezione di sicurezza. E invece parliamo di una truffa ora nel Padovano. Sono arrivati anche camion in un'azienda di quella provincia chiedendo di caricare i pellet acquistati online. È però una truffa di cui sono vittime centinaia di consumatori. Il telefono non smette di suonare nell'azienda Cinetto di Albignasego. Sono decine le persone che chiedono dove sono i pellet ordinati su internet a 7 euro al sacco. Il problema è che l'azienda in questione non fa vendita online e non ha accettato nessun ordine. Da sabato però sono tempestati di telefonate da ogni parte d'Italia perché sul sito internet pelletrinascita.it viene indicato come indirizzo proprio quello della ditta di Albignasego. La Cinetto però non è in alcun modo collegata a questo sito dove è presente anche un IBAN che non è quello della ditta padovana. Una truffa insomma i titolari dell'attività infatti hanno già denunciato e si stanno muovendo le autorità competenti. La Cinetto inoltre è un'azienda che vende ed installa caminetti e stufe commercializzando quantitativi di pellet minimi proprio per i suoi clienti. I consumatori truffati sarebbero tantissimi da tutta Italia. È arrivato addirittura un camion che pretendeva di caricare i bancali di pellet acquistati sul sito. Questo dunque è lo specchio della cronaca di queste ultime ore grazie al lavoro delle nostre redazioni. Ora saluto e ringrazio il primo ospite che è collegato con noi. Buongiorno a Roberto Bazzarello che è coordinatore dell'Anci Giovani del Veneto. Buongiorno Bazzarello. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei. Allora un giovane amministratore oltre che coordinatore dell'Anci Giovani perché lei, Roberto ricordiamolo, ha appena 36 anni e ha già una bella carriera alle spalle politica. Sì, qualche giorno fa ho compiuto 36 anni e devo dire che da quando sono giovanissimo, quindi dall'età di 16 anni, ho iniziato il movimentismo in un partito giovanile e poi mi sono candidato alla guida del mio comune dove varie volte oggi sono consigliere in opposizione e ho avuto anche l'occasione di essere eletto per la prima volta perché fino a qualche anno fa anche l'Anci Giovani era su indicazione politica, per la prima volta abbiamo realizzato una lista, mi sono candidato al congresso di Anci Giovani Veneto e ne sono diventato il coordinatore insieme ad una squadra bellissima di altri 16 giovani amministratori che mi affiancano e con i quali lavoriamo insieme per restituire dignità e soprattutto far vedere che i giovani nelle amministrazioni esistono e sono molto importanti. Ecco, Bazzarello, appunto, è un periodo di grande fermento per i comuni naturalmente, alle prese prima con la pandemia, ora con questa grave crisi energetica, devono fare i conti con i loro bilanci, devono naturalmente fare anche i conti con le tante richieste di aiuto che arrivano dalle famiglie, eccetera. Abbiamo sentito più volte il presidente di Anci Senior Veneto, Mario Conte, intervenire su questo tema. Innanzitutto spieghiamo qual è il ruolo di Anci Giovani e poi un suo sguardo su questa situazione che vivono i comuni, tanti dei quali amministrati da giovani amministratori? Allora, facciamo la premessa, Anci è l'associazione nazionale dei comuni italiani, quindi è l'associazione che rappresenta tutti i comuni in Italia che sono circa 7.900 più o meno. All'interno di Anci vi è anche la parte dedicata ai giovani amministratori, che quindi Anci Giovani. Anci Giovani raccoglie tutti gli amministratori giovani, quindi under 35, che siano sindaci, assessori o consiglieri comunali o presidenti di municipio, che ovviamente sono in carica. Pensiamo che questi giovani sono circa 20.000 a livello nazionale, quindi non sono pochi, e in Veneto sono circa 1.500. Anci Giovani rappresenta appunto in Veneto questi 1.500 giovani attraverso un coordinamento regionale che, come dicevo prima, è stato eletto a dicembre del 2019. Abbiamo 16 componenti, due giovani amministratori per ogni provincia della nostra regione e con il 50% di donne, che non sono quote rosa, ma ci tengo sempre a sottolinearlo, sono una rappresentanza di meritocrazia ai sindaci, agli amministratori presenti donne che hanno dimostrato di esserci e che si impegnano quotidianamente nelle realtà locali. Quindi il nostro lavoro è quello di rappresentare i giovani nei tavoli del governo attraverso il nostro coordinamento nazionale, che è composto da tutti i coordinatori regionali delle Anci Giovani Regionali e ovviamente lavoriamo in stretta collaborazione con Anci Senior, perché siamo parte della stessa famiglia e portiamo avanti le stesse battaglie a favore dei comuni. Quindi lavoriamo a stretto contatto con Mario Conte in Veneto e con il nostro Presidente De Caro a livello nazionale. Ovviamente spesso pensiamo che sia difficile che i giovani facciano politica, invece noi siamo l'ennesima dimostrazione con i numeri che quando pensiamo ai ruoli, ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri esistiamo, perché come le dicevo prima siamo veramente tanti e non c'è differenza tra un giovane amministratore e un amministratore senior. E su questo vorrei citare una frase del nostro coordinatore nazionale che dice che un sindaco di 27 anni ha le stesse responsabilità, gli stessi problemi da risolvere di un sindaco di 58 anni, anzi ha qualche pregiudizio in più da vincere, perché spesso i giovani vengono trattati come coloro i quali gli si dice avrete un futuro davanti, quando in realtà noi non siamo il futuro ma siamo il presente e lo dimostriamo tutti i giorni amministrando le nostre comunità. Sul tema dei problemi dei comuni purtroppo non esistono difficoltà per giovani o per senior, esistono difficoltà. Oggi i comuni sono presi con la chiusura dei bilanci, purtroppo abbiamo questo problema che arriva dal caro energia, sono aumentati tantissimo i costi e quindi alla fine per riuscire a chiudere il bilancio ci sono molti comuni che devono fare delle scelte. Una tra queste può essere la chiusura e lo spegnimento dell'illuminazione pubblica oppure abbiamo visto casi in cui adesso si avvicina il Natale e i comuni sono costretti a tagliare i costi delle luminarie per far ovviamente chiudere i bilanci perché non ci sono i soldi per pagare questo aumento esponenziale delle bollette. Ecco, certamente. Allora, Bazzarello, io le chiedo la pazienza di attendere due o tre minuti di stacco pubblicitario e poi ricominceremo a parlare di questo e anche del PNRR di cui si fa un gran parlare naturalmente nei comuni che sono alle prese con questo treno da prendere assolutamente, da non mancare e anche appunto con i bilanci, come dicevamo poco fa, da chiudere. Un piccolo break e ritorniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio, in diretta prima edizione di Antenna 3 di quest'oggi. Stiamo dialogando con Roberto Bazzarello che è coordinatore di Anci Giovani del Veneto e stiamo parlando dei tanti problemi, delle tante difficoltà che incontrano giovani e meno giovani amministratori, abbiamo detto Roberto, in questo periodo naturalmente nei comuni. Ecco, allora parlavamo proprio di crisi energetica, di inflazione, famiglie, imprese in difficoltà e anche comuni. Quest'anno dopo la pandemia sono arrivate le opportunità davvero importanti, consistenti, offerte dal PNRR e molti comuni hanno potuto mettere in cantiere o quantomeno progettare, lo sappiamo, delle opere che altrimenti non sarebbero state possibili. Poi c'è di contro che invece ci sono enti, e adesso le proporrei questo servizio come le province che invece qui a livello Veneto hanno ricevuto in termini di fondi, di finanziamenti, un vero e proprio schiaffo. Sentiamo questo servizio realizzato da Christian Arboit. 225 sono i milioni stimati, anzi testati, di minori entrate per le province a livello nazionale e 20 sono i milioni che sono stati istanziati, quindi meno del 10%. Per quel che concerne la provincia di Treviso, le minori entrate sono circa 4 milioni e 300 mila euro e sono arrivati 379 mila euro. Il decreto è del 23 settembre, ma i numeri ufficiali sono stati comunicati solo nelle scorse ore. L'ennesimo schiaffo alle province arriva dal Dipartimento per gli affari interni del Viminale con la pubblicazione del riparto di quei fondi che dovrebbero servire a compensare la riduzione del gettito derivante da immatricolazioni e RC auto che restano le fonti principali di finanziamento. I soldi per le province arrivano sostanzialmente dal mercato dell'auto, con la crisi di questo settore noi si troviamo a non avere i soldi che ci servono per garantire i servizi di minima. Per Marcon, che è anche presidente dell'Unione delle province del Veneto, si tratta del punto più basso mai toccato dopo il famigerato 2014, quando con la riforma del Rio gli enti vennero svuotati di risorse e competenze, trasformandosi in organi di secondo grado. Va da sé che non si riuscirà a chiudere o a rispettare alcuni impegni programmatici presi in fase di bilancio previsionale. Ora tendiamo che il nuovo governo in qualche modo prenda atto di questa situazione e che vi metta a mano. Solo per la provincia di Treviso mancano all'appello circa 3 milioni e 900 mila euro, a rischio principalmente i cofinanziamenti in edilizia scolastica e sicurezza stradale, con buona pace dell'aumento di incidenti registrato anche negli ultimi mesi. L'ordine di grandezza è simile da Belluno a Verona. In tutto le province del Veneto avrebbero un fabbisogno di quasi 30 milioni di euro, ne riceveranno 2 milioni e 600 mila. Se siamo chiamati a fare programmazione su strade ed edilizia scolastica non possiamo essere condizionati dall'andamento del mercato dell'automobile. Allora Bazzarello abbiamo accennato PNRR da una parte ed è un tema e poi trasferimenti dall'altra che non sempre appunto sono certi. Non è semplice effettivamente districarsi e amministrare e portare avanti degli enti in un quadro come questo? Non è assolutamente semplice, anche se poi pensiamo che appunto il decreto del 23 settembre poi è stato cambiato il governo e quindi speriamo che il nuovo governo abbia più attenzione rispetto alle autonomie locali, quindi ai comuni e soprattutto alle province che come ricordava il Presidente Marcon, grazie alla legge del Rio sono diventati un ente di secondo livello e tra l'altro non sono neanche più eletti dai cittadini ma sono eletti dagli amministratori. Senz'altro bisognerà costruire dei tavoli importanti che Anci sta già sollecitando con il governo e riuscire a dialogare per rispettare quelli che sono i fatti che erano stati fatti o addirittura aumentare le risorse ma ovviamente senza tagliarle. i progetti del PNRR comunque sono importantissimi come diceva lei prima e come accennava per le opere del territorio, pensi che abbiamo circa 40 miliardi di euro che nella fase preliminare sono già stati assegnati tutti ai comuni anche se ovviamente ci sono delle criticità e quindi va dato atto che è stato compiuto un grande sforzo a livello di progettazione grazie alla collaborazione con i ministeri e con le regioni. Adesso c'è un passaggio successivo che è quello di passare alla fase esecutiva e nel passaggio della fase esecutiva ci sono dei problemi. Il primo problema riguarda praticamente l'aumento dei costi delle materie prime come dicevamo prima nell'energia c'è anche un aumento dei costi delle materie prime e quindi è stato predisposto un fondo per far sì che questo strumento fronteggi l'aumento dei costi ma questo va rifinanziato e poi dobbiamo cercare di velocizzare quelle che sono le pratiche di autorizzazione per l'apertura dei cantieri. Poi c'è un'ultima questione, una terza ma forse una delle tante che riguarda le procedure di attuazione dobbiamo cercare di semplificare quello che è il canale tra comuni e ministeri perché alla fine altrimenti non riusciamo a costruire i progetti soprattutto nella fase di rendicontazione che è molto scrupolosa e quindi alla fine ci ritroviamo ministeri che lavorano in modo diverso e invece siamo convinti che queste procedure debbano essere standard e soprattutto semplificate per garantire che le scadenze nazionali siano poi compatibili con quelli che sono i tempi di affinamento dei lavori. Senta, svestendosi un po' della sua parte politica, nel senso lei è esponente di Fratelli d'Italia e la nuova leader del governo è effettivamente di questo partito, è Giorgia Meloni. Quali sono le istanze che da coordinatore di Anci Giovani si sente di sottoporre al governo in sintesi? Allora il mio intervento di oggi è in rappresentanza di Anci Giovani e quindi nonostante io abbia nel mio cuore la fede di essere un patriota dei Fratelli d'Italia, il mio ruolo lo esercito sempre nel modo più istituzionale possibile perché appunto Anci è super partes, all'interno di Anci sono raccolti tutti i partiti politici dello scenario e quindi il mio ruolo è un ruolo istituzionale di rappresentanza di tutti i pensieri politici e quindi di qualsiasi amministratore e di qualsiasi colore. Per quanto riguarda le istanze di Anci Giovani noi abbiamo già lavorato perché dialoghiamo quotidianamente e costantemente con il governo, lo abbiamo fatto lo scorso anno con un incontro praticamente con il ministro Fabiano Dadone dove abbiamo fatto delle proposte, quindi abbiamo raccolto quelle che potevano essere le istanze del territorio attraverso i nostri coordinamenti regionali per quanto riguarda l'associazionismo, le politiche giovanili, l'istruzione, la cultura e quindi abbiamo costruito un documento che abbiamo poi presentato all'epoca al ministro delle politiche giovanili Fabiano Dadone che adesso ovviamente con il nuovo governo si è insediato il nuovo ministro al quale facciamo gli auguri di buon lavoro e molti di questi punti che abbiamo presentato e molti di questi punti che sono stati realizzati tra l'altro dal Veneto quindi da Anci Giovani Veneto sono poi stati portati avanti dal governo. Adesso noi abbiamo due grandi opportunità, la prima è quella dell'assemblea nazionale di Anci che sarà a Bergamo dal 22 al 24 novembre dove tutti i sindaci senior e giovani si incontreranno e dialogheranno con i ministri e poi con il premier durante questa bellissima tre giorni e analizzeremo e toccheremo i problemi dei comuni e le soluzioni da portare anche ai cittadini. E noi per quanto riguarda Anci Giovani incontreremo il nuovo ministro ed elaboreremo delle nuove proposte da presentare. Ecco un'ultima battuta per dire che ci sarà poi l'assemblea di Anci Giovani invece proprio nei nostri territori all'inizio dell'anno prossimo, doveva svolgersi a settembre e poi è caduto il governo, ci sono state le elezioni e quindi avete spostato la data, è così? È così, infatti è una bellissima notizia per il Veneto perché l'impegno di Anci Giovani Veneto è stato premiato, siamo tra i primi coordinamenti d'Italia per lavoro e quindi ci è stato riconosciuto questo merito attraverso la disponibilità nell'organizzare l'Assemblea Nazionale di Anci Giovani che faremo proprio a Treviso. Ci sarebbe dovuta svolgere a settembre di quest'anno, purtroppo con il cambio di governo e le elezioni anticipate abbiamo dovuto rimandare questo appuntamento, è stata confermata per i primi mesi del 2023, quindi penso sarà a marzo ed è stato confermato anche che sarà a Treviso che ospiterà questo importante appuntamento. Pensate che sarà l'occasione per raccogliere oltre un migliaio di giovani amministratori presenti che proverranno da tutte le parti d'Italia e ci confronteremo con i ministri del governo per quanto riguarda le tematiche e le politiche giovanili. Benissimo, allora grazie mille per la sua presenza e il suo intervento a Roberto Bazzarella. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro, coordinatore di Anci Giovani Veneto. Grazie ancora, buon lavoro Bazzarella. Prima di passare ai prossimi ospiti che tra l'altro sono già collegati, un paio di notizie. Una riguarda le Olimpiadi di Cortina Milano del 2026 perché il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha scritto alla Fondazione Milano Cortina ma anche al CONI e al ministro dello sport Andrea Abodi perché si decida se finanziare la pista da Bob e Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi o di spostare le gare a Innsbruck. La missiva di cui parla la stampa di oggi è legata al fatto che i costi anche per il caro energia e le materie prime sarebbero lievitati dai 55 milioni iniziali a oltre 80 milioni per l'impianto all'ombra delle Tofane. Una scelta eventuale quella di Innsbruck che secondo Zaia andrebbe ad assopire le polemiche che il tracciato cortinese ha suscitato in materia ambientale. Nella lettera estremamente articolata in cui si ricordano gli aspetti ambientali delle Olimpiadi e quelli relativi al contenimento dei costi, Zaia rileva anche le perplessità espresse dal CIO proprio sulla realizzazione della pista da Bob che sarebbe stata tracciata stralciandola dal progetto complessivo. Quindi questo è un tema su cui ci sono continui colpi di scena evidentemente e vedremo come andrà a finire ma insomma c'è questa apertura del presidente della regione Zaia a spostare le gare, lo abbiamo letto, a Innsbruck. Tra l'altro per quanto riguarda l'impatto di opere sul territorio vi propongo quello che è stato l'esito in parte anche sorprendente del sondaggio che abbiamo lanciato ieri sera a Ring, la nostra trasmissione di politica condotta da Ferdinando Avarino perché alla domanda gas trivellare anche in Veneto questa è la risposta di voi telespettatori quindi sì 82,7% no 17,3% per cui malgrado il dibattito che è in corso in questo momento senza dubbio vista anche la crisi energetica, la dipendenza a livello di energia da altre nazioni e la voglia di rendersi autonomi ecco questa è la risposta di voi telespettatori, di voi cittadini insomma per cui oltre l'80% dice sì alle trivellazioni. Ora voltiamo pagina, andiamo alla sicurezza stradale, altro tema naturalmente sempre d'attualità purtroppo visto quello che accade sulle nostre strade in Veneto con due sindaci che sono già collegati e ringrazio e saluto e parlo di Stefano Bosa, buongiorno, sindaco di Resana, siamo nella Castellana Trevigiana e Nicola Vieceli o Vieceli mi correggerà lei sindaco? Ecco, mi ridica? Buongiorno Buongiorno Ecco, benissimo, sindaco di San Gregorio nelle Alpi, quindi nel Bellunese perché abbiamo voluto mettervi insieme in questo collegamento in diretta per sottolineare il contrasto tra le due azioni che avete adottato, che state adottando per incentivare la sicurezza stradale e sensibilizzare gli automobilisti e adesso chiederò proprio a voi di spiegarle diciamo che il contrasto è un po' tra l'uso delle buone o delle cattive, la metto così una campagna shock quella di Resana che usa il mezzo visivo dei mezzi stradali incidentati, distrutti e una in realtà che arriva indirettamente da un altro progetto di un doposcuola ma insomma che invita a fare attenzione a San Gregorio alla presenza in strada di bambini e lo fa con colori, con disegni che ricordano proprio quelli che realizzano i bambini Allora comincerei da Stefano Bosa per spiegare qual è l'azione messa in campo dal momento che poi domenica sarà la giornata naturalmente nazionale dedicata alle vittime della strada Sì, allora noi abbiamo, come da qualche anno a questa parte, esposto di fronte al municipio un'auto completamente distrutta da Redice, quindi da un incidente stradale e anche uno scooter quest'anno che l'ha distrutto quindi l'impatto visivo è molto forte, c'è a fianco anche lo striscione realizzato ancora con la campagna nello scorso anno tra Provincia e Treviso, MOM e comuni che invita a non utilizzare il cellulare quando si è in auto Sì, il messaggio è forte, però abbiamo anche un altro aspetto di questi messaggi perché a fianco ci sono anche dei messaggi realizzati anche in questo caso dai ragazzi delle scuole qui vicine di Castelfranco in cui magari viene dipinto, cioè ci sono dei messaggi meno scioccanti, diciamo così quindi abbiamo entrambi gli aspetti chiaramente chi passa però viene subito colpito dall'impatto visivo, quindi dall'impatto dell'auto l'abbiamo fatto perché è meglio vedere un'immagine del genere così statica quindi che non c'è l'incidente rispetto ad avere dei incidenti poi abbiamo la fortuna, sfortuna che di fronte al municipio passano circa 30.000 mezzi al giorno quindi la visibilità è forte memore anche di esperienza degli anni scorsi, vedo che c'è gente che si ferma, osserva, legge i messaggi quindi l'importante è arrivare all'obiettivo quindi attraverso la campagna sciocco, attraverso messaggi anche meno impattanti il problema è arrivare all'obiettivo, soprattutto dei giovani che stiano attenti quando usano l'auto, che vadano piano che si mettono la guida in condizioni di lucidità chiaramente che non ci sia, soprattutto ho visto in questi anni, un utilizzo del cellulare quando sei in macchina, purtroppo è uno dei principali motivi di distrazione che sono in questo momento Ecco, chiederei proprio alla regia di mostrare le immagini di questa campagna che ci avete fornito, sindaco dei mezzi, eccoli qua descriviamo un pochino, un'auto e uno scooter mi pare, no? Sì, sì, c'è un'auto e uno scooter a fianco c'è lo striscione di non utilizzare il cellulare e dietro, se si nota, c'è anche il tabellone, il cartellone delle familiari vittime della strada a cui ci sono le foto dei ragazzi che purtroppo hanno perso la vita in questi anni quindi, come dico io, speriamo che questo manifesto serva qualcosa e soprattutto che non debba essere aggiornato ogni anno con nuove vittime, soprattutto giovani Esatto, perché poi il vostro territorio è stato anche segnato negli anni da lutti molto vasti, molto profondi insomma da casi di cronaca davvero gravissimi, vero? Purtroppo sì, anche recentemente abbiamo visto anche vicino a noi, pochi chilometri il fatto della ragazza a Fonte, cioè no, sì, tra Fonte e Pieve del Grappa quindi è la ragazza di Fonte che è stata investita di notte poi altri incidenti, poi lo vedevo anche stamattina, ho visto che è successo qualcosa a Riese un altro incidente stradale, quindi c'è la zona, come tutte le zone molto trafficate presenta, tante volte sono incidenti stradali, molte volte anche purtroppo diventano mortali e penso che chiunque, qualsiasi comune ha avuto delle tragedie come quelle stradali quindi speriamo che ci siano meno possibili attraverso questa campagna di formazione che poi è una campagna coordinata anche dal tavolo di sicurezza stradale che è stato recentemente istituito anche a livello provinciale che sta partendo adesso quindi per cercare di mettere assieme più enti per invitare tutti a rispettare le regole della strada per dare precedenza alla vita, un po' lo slogan delle varie iniziative Ecco, lei mi ha lanciato appunto l'opportunità di dire quello che è successo proprio a Riese Sindaco questa mattina perché si tratta di una mamma di 36 anni che era in macchina con il figlioletto di soli 16 mesi residenti a Loria, quindi siamo sempre nelle vostre zone della Castellana ha perso il controllo della macchina ed è finita fuoristrada questa mattina poco prima delle 8 l'uscita è avvenuta a Poggiana di Riese altro nome che purtroppo noi trevigiani ricorda fatti molto tristi quando il mezzo è finito fuoristrada forse a causa dell'asfalto bagnato sul posto il personale del 118 che ha portato madre e figlia al caffoncello di Treviso la donna ha riportato una ferita al ginocchio, il piccolo alla fronte ma per fortuna insomma dopo la grande paura le condizioni di entrambi sono buone per cui in questo caso per fortuna non dobbiamo dare cattive notizie non più del dovuto insomma il suo collega di San Gregorio invece allora Sindaco, com'era capitato anche in Comelico se ricordiamo bene avete voluto far notare che insomma in montagna i bambini sono ancora un po' padroni delle strade, è così? Sì, sicuramente è un messaggio che è stato dato che serve appunto per dire che anche i bambini visto che ce ne sono pochi visto lo spopolamento di cui subiamo annualmente la pressione avere la possibilità di indicare che c'è la possibilità di una vivibilità dei paesi che non sono soggetti a un traffico veicolare come è stato ricordato dal collega Sindaco in precedenza è un segnale che diamo insomma e quindi sottolineare questo aspetto proprio per cercare di invitare i genitori a essere presenti nelle nostre zone a poter iscrivere i propri figli alle scuole del territorio che hanno la possibilità oltre ai giardini anche la possibilità di utilizzare le strade perché non c'è il problema del traffico che ci sono da altre parti è un aspetto che aiuta insomma e quindi comunque la sensibilizzazione da parte di chi frequenta la strada ricordando che non è solo degli automobilisti o solo dei motociclisti ma può essere anche dei pedoni e quindi è il caso che siano sottolineati questi aspetti ecco esatto qua infatti vediamo le immagini proprio del cartello in comelico voi avete scelto una cosa più colorata che sembra proprio un messaggio che viene dai bambini sì è un messaggio che arriva proprio dai bambini perché attraverso gli anni in cui si è andato a sensibilizzare le iscrizioni alla scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi e ai servizi che sono stati ad essa affiancati proprio per mettere nelle condizioni i genitori di poter avere un supporto alle attività soprattutto nei pomeriggi e dare la possibilità ai bambini che non siano chiusi in casa ma siano nel territorio vadano a conoscerlo e facciano socialità insieme agli altri è questo l'aspetto positivo che chiaramente necessita anche di una parte che riguarda la sicurezza stradale proprio perché ci sia la tranquillità per i genitori di poter lasciare i propri bambini che possano vivere la comunità e i paesi dove abitano ma è vero come ha detto il presidente della provincia Padrin che in montagna i bambini usano meno gli smartphone e stanno più all'aperto è una curiosità guardi io non so rispondere su questo aspetto credo che per quanto riguarda le istituzioni sia la necessità sia necessario creare delle alternative per noi abbiamo in particolare abbiamo la possibilità di utilizzare gli spazi che ci sono ci sono i prati ci sono i boschi c'è la possibilità di appunto vivere il territorio cerchiamo di dare ai figli e ai bambini che sono presenti sul territorio questa possibilità sperando che la spruttini e che poi la ricordino per tutta la vita certo tornando al sindaco di Resana Bosa allora come viene accolta questa campagna dai suoi cittadini lei ha questi mezzi incidentati davanti al municipio magari è capitato insomma di sentire qualche commento da parte della gente magari anche dei più giovani i commenti sono sicuramente a favore della campagna anche perché anche noi abbiamo avuto diversi casi purtroppo negli anni di tragedie stradali anche perché dicono sindaco vai avanti perché cerchiamo di quindi dare dei messaggi ai nostri ragazzi che prendono la patente a 18 anni ma le pensano di avere in mano un mezzo sicurissimo si può andare pensano di essere i padroni della strada invece purtroppo capitano questi incidenti una cosa approfitto per sottolineare ho visto il cartello del collega del comune e mi piacerebbe anche a me mettere certi cartelli nelle mie strade solo se li metto rischio nella galera visto che per noi i bambini chiaramente non possono giocare per strada perché abbiamo le strade trafficatissime quindi tantissime macchine che passano e ne approfitto di questo anche per anticipare è una cosa che sicuramente è importante per il nostro comune e per il territorio qui della Castellana e anche dell'Alta Padovana proprio venerdì verrà inaugurata la nuova bretella strada provinciale 19 quindi venerdì mattina alle 11 che è una bretella attesa dal nostro comune da almeno 20 anni che è in costruzione da parte quindi provincia di Treviso regione Veneto rete e ferrovie è una bretella praticamente una variante della strada provinciale 19 che andrà a spostare si spera gran parte del traffico dal centro del paese all'esterno quindi tra virgolette potrebbe essere che l'ultimo anno che facciamo questa campagna sciocca nel senso che magari il prossimo anno passeranno meno mezzi di fronte al nostro municipio beh quelli pesanti sicuramente ne saranno meno che passano però avremo sicuramente una diminuzione del traffico dal centro quindi anche questo è l'intervento per la sicurezza stradale quindi si va sia attraverso la campagna informativa quindi promozione educazione dei più giovani sia attraverso interventi importanti come questo che ripeto è un intervento atteso da tanti anni che venerdì mattina verrà inaugurato nel nostro comune benissimo per cui spostare traffico dai centri dei paesi è sempre una buona notizia ecco invece nella sua zona a San Gregorio Sindaco c'è probabilmente meno problema di traffico intenso magari c'è qualche visitatore qualche turista di passaggio come vengono accolti questi cartelli diciamo che appunto essendo all'interno di un progetto di utilizzo del territorio abbiamo potuto farlo peraltro sono stati fatti dall'amministrazione precedente proprio all'interno della sensibilizzazione per l'utilizzo delle scuole perché non abbiamo il problema del traffico noi abbiamo il problema del popolamento e delle pluriclassi sulle 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 classi quindi è stato proprio un progetto che dura da nove anni che ha avuto diversi diversi step tra cui questo chiaramente è stato possibile fare questa parte perché abbiamo la fortuna di avere un traffico che è molto limitato e quindi l'attraversamento del paese da parte delle delle auto è ancora accettabile non è stiamo a metà montagna quindi non ci sono tante macchine che passano per fortuna e quindi questo ci rende sicuramente favoriti un progetto che stiamo cercando di portare avanti e che l'abbiamo presentato un progetto a Cari Verona riguarda proprio la possibilità di utilizzare anche il giardino della scuola e rendere i passaggi pedonali di accesso al giardino di metterlo in sicurezza quindi questo è il prossimo step che vorremmo fare rendendo anche il giardino della scuola non limitato all'utilizzo diciamo scolastico ma cercando di aprirlo anche alla popolazione in maniera che diventi un altro punto di aggregazione e di incontro tra le varie diciamo classi d'età tra le varie generazioni che esitano nel paese proprio per cercare di recuperare una comunità che chiaramente si è disgregata di fronte ai due anni di pandemia che abbiamo vissuto quindi avere questa possibilità per noi diventa importante proprio perché essendo in pochi abbiamo necessità assoluta di creare sinergia tra le varie classi d'età e le varie generazioni che sono presenti sul territorio ecco è sempre interessante mettere a confondo i sindaci e tutte le idee che devono escogitare devo dire per portare avanti queste comunità con caratteristiche così diverse io vi ringrazio entrambi i sindaci di Resana e di San Gregorio nelle Alpi della loro presenza del loro intervento a questa diretta ricordando naturalmente che seguiremo il tema della sicurezza stradale anche nei prossimi giorni proprio in vista della giornata dedicata alle vittime della strada e quindi grazie Stefano Bosa e grazie a Nicola Vieceli di essere stati con noi e buon lavoro a entrambi grazie 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 a voi per la portata una buona giornata a voi un buon lavoro che lavoro da fare anche nei comuni lo abbiamo sentito ce n'è tanto noi dovremmo avere già collegato con noi in diretta da Padova il collega Guido Barbato perché adesso apriamo altre tematiche ancora abbiamo parlato poco fa anche di ecco comuni che sono in difficoltà economiche lo sono purtroppo famiglie imprese c'è un'inflazione galoppante e quindi appunto ci sono tra l'altro dei dati interessanti in agenzia oggi su quelle che sono le città italiane in cui l'inflazione è maggiore e giusto per darvi un'idea è Ravenna la città che ha visto salire i prezzi più di tutte e a Osta invece la più virtuosa sentiamo come va a Padova dal collega Guido Barbato buongiorno Guido Ciao Alina buongiorno a tutti a Padova l'inflazione dati arrivati poco o meno di un'ora fa è registrata al 12,1% sopra la nazionale che è all'11,8 quindi siamo di questo 0,3% in più e diciamo che questo dato è trascinato da quello che è stato l'aumento o quello che è speriamo che non sarà più l'aumento degli idrocarburi e dell'energia elettrica vi faccio un semplice esempio perché poi andare a guardare nello specifico ogni singola voce è molto interessante anche per guardare insomma un po' le proprie tasche le tasche dei nostri telespettatori delle aziende delle persone che ci seguono perché solo l'energia elettrica è salita in un anno del 174,8% un dato questo accostato associato a quello dell'aumento del gas 96,9% dei combustibili solidi che si adoperano magari nelle nostre case oltre le mura dell'aumento del 100% esatto per esempio vi ricordo ci riferiamo ai dati della provincia di Padova un po' per un commento un'analisi di questi dati che ha cascata poi sono andati a far aumentare molti altri beni ne parliamo con Nicola Rossi il nostro ospite che è il presidente di Confesercenti di Padova ma è anche il vice presidente regionale veneto di Confesercenti buongiorno Rossi buongiorno allora la madre di tutte come dire che trascina questo dato inflazionistico a due cifre tra il 2021 e il 2022 è stata l'energia diciamo la voce energetica non solo quella dell'energia elettrica anche se il dato più impressionante a tre cifre è quello dell'energia elettrica ma io un po' che definisco oggi abbiamo i dati certi diciamo ma è un po' che definisco il problema energetico sia idrocarburi che energia elettrica la marre di tutte le inflazioni cioè è da lì che nasce un po' tutto l'effetto inflattivo sulle merci io ricordo sempre che per produrre le merci c'è bisogno di energia vuoi a livello di trasformazione vuoi a livello di trasporto vuoi a tutti i livelli tant'è che le più penalizzate sono le aziende energivore e i costi maggiori si hanno nella trasformazione per esempio il burro aumenta del 40% sia in determinate trasformazioni che necessitano di energia e questo è un dato poi se andiamo a vedere anche nella frutta la verdura soprattutto la verdura soprattutto cresce 34% circa e laddove c'è un maggior transito trasporto delle merci o attività di trasformazione tu vedi subito l'aumento dei prezzi in maniera importante lei accennava prima per esempio che insomma adesso comincieremo ad accendere o qualcuno ovviamente ha già acceso il riscaldamento ma anche le aziende che necessitano di calore come per esempio qui del florovivaismo nella provincia di Padova che è molto diffuso oppure diciamo questi impegni riguardanti tutte le fonti energetiche aziendali assolutamente ma noi siamo stati anche fortunati finora perché la temperatura ha consentito di risparmiare le riserve di gas per cui questo è stato un aspetto positivo nonostante questo abbiamo un 100% la crescita del gas e 175% praticamente la crescita dell'energia elettrica il problema è abbastanza molto importante cioè io spero che al più presto ritorniamo alla normalità perché il prossimo passo sarà quello della calo dei consumi la contrazione dei consumi perché le famiglie arrivate a un certo punto non ce la faranno ecco guardando comunque alla borsa della spesa quotidiana a Padova appunto lo specifico ufficio prezzi ha rilevato l'aumento del pane e dei cereali del 17,5% in un anno del riso del 31,8% facciamo 32% e della farina e altri cereali del 25% ricordate questi beni che andarono a ruba anche durante il periodo di lockdown sono saliti diciamo di più di un quarto del loro valore appunto il latte fresco ha avuto un aumento del 16% quello conservato del 31% proprio come ci spiegava il nostro ospite per tutti i processi lavorativi che sono necessari nell'industria anche nel campo alimentare lei faceva anche o meglio da questi dati emerge infine Rossi un 6% di aumento nella ristorazione è un valore che alla luce di quanto leggiamo oggi da questi dati comunali può ritenersi accettabile assolutamente equilibrate anche abbastanza in linea col sistema anche basso se vogliamo perché se pensiamo a quanta energia consumano i ristoratori se pensiamo alle piastre lette ai forni se pensiamo al gas per le cucine insomma l'incremento dei costi è stato notevole tutta la nostra vita è condizionata da questi costi dell'energia assolutamente noi purtroppo oggi tutti i nodi prima o poi arrivano al pettine e paghiamo una politica non accorta negli ultimi 30 anni dell'energia della produzione dell'energia noi abbiamo un paese pieno di sole con la possibilità di produrre fotovoltaico energia solare dal sole in maniera non voglio dire autosufficiente ma insomma possiamo sicuramente incrementare in maniera forte se poi pensiamo all'acqua se pensiamo ai nostri fiumi se pensiamo siamo circondati da qualsiasi allo geotermico ebbene non c'è stata l'occortezza necessaria sento questi dati padovani possiamo azzardarci a dire che assomigliano alle altre sei province del Veneto assolutamente Verona forse fa anche una virgola peggio però è inevitabile è un'area dove c'è un'industria forte di trasformazione dove c'è una richiesta anche di beni e servizi costante e chiaramente purtroppo questa richiesta probabilmente di merci comincerà a diminuire proprio per problemi economici bene direi che l'analisi del nostro ospite ricordo Nicola Rossi presidente della Confesercenti di Padova e vice presidente Veneto mi è sembrata molto chiara cosa dici Lina io a questo punto ti riderei la linea e buona visione ai nostri telespettatori per nulla incoraggiante devo dire allora questo tuo collegamento ci permette di agganciarci con il nostro ospite che è venuto a trovarci in studio e che ringrazio Antonio Pone buongiorno direttore regionale dell'Inps con cui parleremo del fatto se anche le pensioni si adeguano allora in qualche modo stanno già adeguandosi nel senso che c'è la perequazione delle pensioni già iniziata e poi abbiamo visto che insomma il governo dovrebbe mettere mano anche a quello che è un adeguamento a livello di inflazione facciamo un po' il punto direttore su quello che sta accadendo partendo dalla notizia buona per i pensionati che qualche soldino in più lo troveranno nelle loro cedoline è così? è così diciamo che il governo è intervenuto progressivamente con più interventi vediamo di fare un riepilogo di questi interventi uno di importo molto modesto lo diciamo solo perché facciamo le cose diciamo in maniera completa voi sapete che ogni anno c'è un adeguamento che tiene conto dell'inflazione la cosiddetta perequazione la perequazione si fa su un importo stimato dell'inflazione a fine anno si fa il calcolo effettivo di qual è stata nell'anno precedente l'inflazione e si salda la differenza quest'anno il saldo è stato anticipato al mese di ottobre quindi siccome era stata calcolata per il 2021 un'inflazione pari a 1,7% che poi invece a posteriori è stata misurata nell'1,9% questa differenza questo 0,2% è stato restituito ma non con la rata di gennaio come normalmente avviene è stato anticipato al mese di ottobre parliamo ovviamente di importi molto modesti perché stiamo sostanzialmente restituendo la differenza rispetto a un differenziale quindi giusto per fare un esempio un importo medio è tra i 17 e i 20 euro quindi diciamo quasi poco percepibile visto quello che è successo nel 2022 2022 è stato l'anno in cui sono esplosi i prezzi delle materie prime i prezzi in particolare delle materie prime energetiche la guerra quindi è cambiato completamente lo scenario il governo è intervenuto prevedendo un anticipo di quella che sarebbe stata poi la normale per equazione a fine anno relativa al 2022 prevedendo un incremento dell'importo delle pensioni pari al 2% per i titolari di prestazioni pensionistiche ma anche assistenziali di importo non superiore a 2.692 euro lordi quindi tutti questi soggetti hanno percepito un aumento del 2% delle loro pensioni in essere già dal mese di ottobre e questo aumento proseguirà anche sulla rata relativa al mese di novembre sulla rata relativa al mese di dicembre sulla tredicesima il famoso 2% se ne è parlato molto esatto il famoso 2% se non che con un decreto della settimana scorsa il governo ha previsto un anticipo di fatto ha stabilito quale sarà l'importo diciamo l'anno corrente e diciamo l'importo è in percentuale pari al 7,3% è un importo mai visto negli ultimi anni cioè per tornare a una rivalutazione delle pensioni di questa misura dobbiamo tornare agli anni 80 ovviamente l'importo viene corrisposto al netto dell'anticipo già erogato nel mese di ottobre novembre dicembre e nella tredicesima ma diciamo da questo punto di vista l'importo è molto importante chi per esempio ha delle pensioni superiori a 2692 e quindi non ha goduto finora di un'anticipazione quando ci sarà diciamo la liquidazione del mese di gennaio avrà questo aumento ovviamente la rivalutazione delle pensioni avviene con le modalità che tutti i pensionati ormai hanno imparato a conoscere avviene al 100% per un importo della pensione che sia pari fino a 4 volte il trattamento minimo quindi sostanzialmente quando l'importo della pensione è inferiore a 2.101 euro su quella fascia lì l'aumento è del 100% quindi il 100% di questo 7,3% di aumento quando l'importo della pensione è compreso tra 4 e 5 volte il cosiddetto trattamento minimo il trattamento minimo sono 525 euro circa quella fascia ulteriore ha un incremento del 90% di questa rivalutazione quando sulla fascia eccedente 5 volte il trattamento minimo l'aumento è pari al 75% quindi diciamo complessivamente diciamo riguarda è la parte diciamo oltre il trattamento oltre 5 volte il trattamento minimo cerchiamo di fare degli esempi concreti per capire quanto viene in tasta che i singoli pensionati sulla base dell'importo della pensione allora chi ha un trattamento minimo abbiamo detto 525 euro avrà un aumento mensile pari a 39 euro per i titolari di una pensione di importo di 1000 euro l'ordine l'aumento mensile sarà pari a 73 euro vedo che l'avete forse anche in sovrimpressione un trattamento da 1500 euro lordi ha un aumento di 110 euro lordi mensili 2000 euro 146 euro lordi per i trattamenti da 2500 euro lordi l'aumento è 180 euro lordi per i trattamenti ad esempio di 4000 euro la rivalutazione è oltre diciamo così è circa 263 euro lordi mensili quindi da questo punto di vista si tratta diciamo di aumenti questi sì che saranno percepiti ma abbiamo visto che ovviamente è anche aumentato tutto il resto sono aumenti che sicuramente veranno automaticamente ecco un dato che non diciamo che possiamo dire oggi che non è noto quanto Cuba quanto ammonta in termini di assorbimento delle risorse finanziarie in Veneto questo tipo di questo tipo di rivalutazione secondo le nostre stime circa 1773 milioni di euro quindi un miliardo e 700 milioni di euro cosa significa? Significa all'ordo della tassazione significa un importo rilevante tutto il dibattito magari se c'è tempo lo affronteremo dopo questo argomento sulle pensioni ha come tesoretto sulla flessibilità diciamo il cosiddetto scalone per evitare la fornero che è un miliardo di euro ecco solo in Veneto le rivalutazioni assorbiranno un volume complessivo di risorse che è pari a un miliardo 773 milioni e sostanzialmente è un importo che è corrispondente a una mensilità in più di assegno per i singoli pensionati se ragioniamo a livello complessivo nazionale nel periodo 2022 2025 le rivalutazioni di quest'anno comporteranno un aumento della spesa e quindi sostanzialmente un assorbimento di risorse per oltre 50 miliardi questo perché perché ovviamente la rivalutazione che viene effettuata quest'anno va ad aumentare l'importo della pensione che poi sarà rivalutata anche negli anni successivi cioè si crea l'effetto montante e quindi il costo non è solo quello legato al 2022 o al 2023 che è l'anno effettivo della rivalutazione ma anche negli anni successivi si stimano 21 miliardi nel 2023 18 miliardi nel 2024 e 7 miliardi nel 2025 per effetto di questo effetto trascinamento legato al fatto che poi verrà in futuro rivalutata anche come dire l'importo maggiorato corrisposto a partire da gennaio di quest'anno ecco il senso di fare questo calcolo qual è nel senso di dire attenzione pensionati c'è la buona notizia perché qualche soldino arriva ed è necessario sotto gli occhi di tutti vista l'inflazione ma questo ha delle conseguenze il segnale è che intanto è stato fatto uno sforzo importante perché per cercare di rivalutare le pensioni a livello nazionale come si è detto la spesa l'assorbimento di risorse previsto nel periodo considerato è di oltre 50 miliardi se guardiamo solo il 2023 e solo il Veneto abbiamo detto l'incremento della spesa è 1 miliardo 700 erotti milioni di euro quindi è un importo importante è chiaro che in un contesto finanziario non semplice sono risorse che se non si fosse creata l'inflazione che purtroppo siamo costretti ad affrontare in parte potevano anche essere utilizzate per fare un ragionamento su forme di flessibilità in uscita mitigatrici rispetto a quelli che sono i requisiti standard della legge Fornero invece quello che diciamo è l'orientamento del dibattito politico e anche del confronto tra governo e parti sociali è a ragionare per l'anno corrente anche perché ormai siamo a fine anno e quindi materialmente non si farebbe più a tempo su soluzioni diciamo così compatibili col fatto che le risorse finanziarie sono a questo punto esigue quindi il ragionamento su l'ipotesi quota 41 con 62 anni di età e la proroga di opzione donna che complessivamente hanno un costo sostenibile l'ipotesi che è circolata appunto di quota 62 anni di età per l'uscita e 41 anni di contributi ha un costo di circa 700 milioni di euro circa 300 milioni di euro costerebbe la proroga per il 2023 di opzione donna arriviamo a circa quella disponibilità diciamo che il ministero dell'economia aveva segnalato di circa un miliardo di euro per ragionare attorno forme di flessibilizzazione il vero dibattito sulla riforma delle pensioni a questo punto viene trasferito al 2023 quindi facendo un ragionamento più complessivo sulle risorse disponibili e soprattutto avendo tempo per sviluppare quel canale di dialogo tra governo e parti sociali che il ministro del lavoro Marina Calderone ha detto di voler comunque tenere come meccanismo attraverso il quale arrivare all'accordo cioè una delle scelte che se possibile dove possibile siano operate in condivisione con le parti sociali trovando diciamo delle soluzioni compatibili con le risorse ma frutto di un confronto di una negoziazione che ha bisogno di tempo per potersi eventualmente raccordare su soluzioni concrete anche perché probabilmente queste azioni di cui parlavamo prima raggiungono tutti in questo momento chiaramente aver concentrato risorse solo su questo ne avrebbe beneficiato una fascia più ristretta non c'è dubbio possiamo fare anche degli esempi concreti allora abbiamo detto il volume per esempio dei pensionati non solo pensionati IMS ma anche pensionati in casse professionali in generale diciamo pensionati che non sono anche se è ovviamente una frazione minoritaria pensionati IMS in Veneto è pari a 1.288.973 persone quindi quando stiamo parlando di adeguamento di sostentamento e di recupero della perdita di potere d'acquisto per l'inflazione stiamo ragionando di dare risorse a queste persone è chiaro che il governo ha dato la precedenza come dire al sostegno ai pensionati in essere le platee di cui ragioniamo quando ragioniamo di opzioni in uscita sono molto ridotte possiamo fare appunto degli esempi concreti a livello nazionale ma i numeri poi li possiamo anche declinare sul nostro ambito locale Veneto l'ipotesi che menzionavo prima 62 anni di età 41 come volume anni di contributi versati raggiungerebbe circa 45.000 unità a livello nazionale togliendo requisito anagrafico e facendo una quota 41 secca il volume dei potenziali beneficiari grosso modo raggiunge raggiunge le 90.000 unità cosa vuol dire anche facendo uno sforzo che poi avrebbe un impatto molto forte sui costi perché chiaramente togliendo i 62 anni di età diciamo il costo raddoppierebbe e complessivamente sarebbe attorno al miliardo e mezzo di euro e non sarebbe compatibile con le disponibilità esistenti anche facendo questo sforzo è chiaro che si va a intaccare una torta che è comunque quella e in cui per motivi anche comprensibili in questo momento si cerca di dare quella che è la platea più ampia che è costituita appunto dai pensionati in essere ecco per cui allora mi piacerebbe chiederle quale secondo lei sarebbe l'ipotesi più sostenibile in questo momento anche se lei giustamente rappresenta l'ente è più un tecnico insomma un esecutore che ovviamente un politico però dal suo osservatorio che è senz'altro privilegiato anche nei confronti di una società poi sottolineeremo in che modo sta cambiando che sta cambiando quale potrebbe essere una strategia positiva per non destabilizzare anche quello che è un po' quelle che sono le finanze innanzitutto e poi anche quella che è l'aspettativa di queste persone allora c'è una fortissima pressione per arrivare appunto a quota 41 come meccanismo alternativo alla Fornero Tucur cioè come oggi chiedo scusa perché voi naturalmente lo vedete quali sono le opzioni preferite dal cittadino non c'è dubbio allora qui un tema che purtroppo non è stato possibile affrontare ma che era nelle intenzioni del governo affrontare è il tema dell'incentivo a rimanere perché il tema vero è che 62 anni di età possono essere dell'età in cui lavoratori possono fare fatica per tutta una serie di motivi a continuare a lavorare oppure possono essere in condizioni di non appetibilità per quanto riguarda il datore di lavoro in caso di perdita di lavoro e quindi difficoltà di rioccuparsi ma possono essere l'età dove invece in altre professioni le persone possono vivere una stagione ancora molto proficua e avere interesse anche a rimanere quindi il limite è che trattare tutti allo stesso modo rischia di essere un problema e bisognerebbe nel limite del possibile che fosse il lavoratore a scegliere il momento in cui ritirarsi avendo una pluralità di opportunità la riforma Dini la riforma del 95 la riforma che ha creato il metodo contributivo prevedeva qualcosa del genere nel senso che all'epoca si prevedeva una possibilità di uscita che partiva con i 57 anni di età e finiva i 65 anni di età sceglievi tu quando uscire ovviamente se uscivi prima siccome versavi meno contributi e percepivi la pensione per più anni il tuo assegno si riduceva se invece sceglievi di uscire con l'età della vecchiaia avendo contribuito per più anni e percependo la pensione per un numero di anni ridotto l'assegno avrebbe avuto un importo mensile più elevato questo era un po' il principio sicuramente il prossimo anno quello che vedremo è che il dialogo con le parti sociali avrà come oggetto anche le forme di incentivazione a restare queste forme di incentivazione però hanno un costo perché comportano che il lavoratore continui a lavorare che non versi più contributi e che però l'assegno rimanga in qualche modo cristallizzato o addirittura che ci siano forme di incentivazione che comunque consentono diciamo di rivalutarlo e quindi un intervento anche diciamo così delle casse dello Stato non c'era il tempo per affrontare questo tema nel giro di un mese e mezzo che è quello che manca sostanzialmente alla fine dell'anno però il prossimo anno sicuramente questo sarà un tema al centro del dibattito cioè l'orientamento che sta un po' maturando è quello di una soglia un po' più mitigata rispetto a Fornero ma per chi diciamo così potrebbe anche valutare di rimanere delle forme che incentivino la prosecuzione perché possono consentire nella parte finale della carriera lavorativa di avere un reddito reale più elevato rispetto a quello che si percepisce in questo momento ciò detto il tema delle pensioni sicuramente deve venire declinato anche sotto un'altra serie di profili il primo che mi permetto di sottolineare per la sua strategicità è quello della natalità del sostegno alla natalità del sostegno alle famiglie perché per avere una sostenibilità di un sistema a ripartizione il nostro sistema a ripartizione come i sistemi di tutti i maggiori stati europei occidentali è necessario che ci siano nuovi contribuenti perché ci siano nuovi contribuenti occorre che ci siano nuovi nati e dall'altra parte che i giovani trovino impiego quindi i due assi portanti sono quello sostegno alla famiglia alla natalità quello del sostegno all'occupazione cioè di incrementare il numero dei contribuenti quest'anno si è intervenuti con l'assegno unico che è una misura importante che è esteso a platee precedentemente non interessate come il lavoro autonomo per esempio ma non solo questa forma di sostegno si sta ragionando su renderlo più importante nei numeri e sicuramente uno degli assi sarà proprio questo questo governo ha un ministero che si occupa proprio della natalità il segnale è che si vuole intervenire in questa linea su cui i nostri partner europei già da molto tempo stanno investendo l'altro è il tema dell'occupazione è importante avere nei giovani in particolare che andranno col contributivo puro carriere contributive che iniziano presto che iniziano quindi a lavorare presto e diciamo che siano carriere in chiaro e non carriere in cui diciamo così al netto di stagio di roccini e quant'altro non retribuiti magari i primi veri contributi iniziano ad entrare dopo i 35 anni con un danno che a quel punto è importante non era così col retributivo contava la parte finale della carriera contributiva del lavoratore col contributivo conta tutta la carriera contributiva da quando si è iniziato a lavorare ecco lei ha lanciato tanti spunti interessantissimi nel senso che allora il fatto che ci sia una pluralità di strade per uscire dal lavoro attivo insomma penso sarebbe auspicato anche dalle categorie economiche nel senso che abbiamo visto quest'anno in particolare come sia molto problematico sostituire i lavoratori che vanno in pensione non c'è più forza lavoro mi viene in mente banalmente l'esempio dei medici di base poi no avendo potuto ecco continuare insomma penso che poi 62 anni con l'aspettativa di vita che c'è oggi è tutto un ragionamento che si può fare sul fatto che si è in alcune professioni non in tutte sono d'accordo ma in alcune assolutamente attivi e poi per fare un discorso direttore che si potrebbe fare la classica chiacchiera al bar chi pagherà le pensioni è il tema che diceva prima allora proprio di oggi c'è questo dato che lancia il forum delle associazioni familiari del Veneto con cui diceva poco fa insomma che lei già collabora cambia la composizione delle famiglie in Veneto in 20 anni caleranno del 24% le coppie con figli forte aumento dei genitori single ma per o meno questi figli li hanno fatti in particolare tra gli uomini con figli over 20 più 77% cioè in 20 anni in Veneto un calare del 24% delle coppie con figli è un dato drammatico non c'è dubbio non c'è dubbio e questo dato potrebbe essere rappresentato con una figura geometrica questa figura geometrica potrebbe essere una come dire la distribuzione per classi di età della popolazione se noi prendiamo l'asse delle ascisse la numerosità e sull'asse diciamo verticale le ordinate mettiamo come dire finestre di 5 anni in 5 anni tradizionalmente una volta ma anche oggi in molti paesi del mondo la forma che assumeva questo diagramma questo istogramma orizzontale è una forma triangolare significa che i giovani erano tanti e gli anziani erano pochi in un sistema così le pensioni sono ovviamente garantite perché c'è una base retributiva importante che cosa è successo in questi ultimi anni che nel nostro paese diciamo così la forma è un trapezio dove si vede chiaramente che le fasce di età in cui per esempio sono anch'io sono la fase la parte più larga ma andranno in pensione anche loro tra un certo numero di anni e sotto la parte relativa ai giovani si è molto asciugata ma sono i giovani che assicureranno il pagamento delle funzioni delle pensioni future ecco perché diventa importante e strategico allargare questa base noi siamo insieme al Giappone uno dei paesi in cui l'aspettativa di vita è fortunatamente più elevata anche grazie a un sistema sanitario che funziona e anche a tante altre cose anche la qualità della vita la nostra alimentazione però questo è un dato che fa sì che anche l'aspettativa di vita post pensione sia tra le più lunghe nei paesi oxe e al tempo stesso siamo tra i paesi in cui l'età effettiva di uscita è tra le più basse perché in realtà anche in questo momento in Italia l'età effettiva media alla quale si esce è attorno ai 61-62 anni la media europea è 64 ok parliamo di dati quindi di quelli che sono l'età effettiva di uscita è chiaro che occorre intervenire perché il rischio che diciamo ci sia uno squilibrio strutturale nel medio termine nel lungo termine è dietro l'angolo non è un caso questo aumento di interesse per la natalità e questo tipo di incentivazioni di sostegno credo che vedremo interventi sempre più corposi ma rischia di essere tardivo cosa ne pensi? rischia di essere tardivo perché paesi come la Francia sono partiti 15 anni fa e non a caso oggi hanno un tasso di natalità nettamente superiore al nostro in crescita però diciamo è il caso di pensare che non bisogna piangere sull'arte versato e cercare magari di recuperare velocemente però il tema è un tema decisivo decisivo ma anche perché al di là dell'aspetto pensionistico il declino di un paese inizia quando declinano le nascite nel senso che comunque al di là dell'aspetto pensionistico siamo destinati già a diminuire anche come numero complessivo di abitanti di residenti di cittadini in Italia ma soprattutto i giovani rappresentano anche il volano della creatività il volano delle opportunità il volano come dire di una società dinamica che realizza diciamo innovazione quindi il tema dell'investire sui giovani dell'investire sulla natalità di attrarne anche al limite dall'estero deve diventare un obiettivo strategico bipartisan cioè a prescindere da quali siano le forze politiche al governo questo è un tema che è un tema strategico su cui tutti devono convergere perché è uno di quegli obiettivi diciamo così che devono condividere per forza tutti certo perché quella figura geometrica di cui parlava prima al di là delle pensioni rischia di far crollare tutto quanto a una base che non regge insomma noi lo stiamo vedendo in quanti settori allora quante volte abbiamo sentito all'inizio di quest'anno che per esempio ci sono scuole dove devono ridurre delle sezioni oppure scuole di prossimità in particolare scuole primarie che in prospettiva andranno a chiudere perché non ci sono più alunni e questi sono altri segnali convergenti e quelli sono anche posti di lavoro e quindi è una società che rischia come dire di implodere e rischia in qualche modo di ripiegare su se stessa ma quando noi sentiamo che non riusciamo a trovare per esempio mano d'opera ma soprattutto noi che siamo una regione turistica non riusciamo ad avere diciamo così disponibilità per la stagione turistica beh quelle disponibilità se ci facciamo caso sono di solito le disponibilità dei giovani no cioè chi fa la stagione no fa magari collabora con un bar con un ristorante un albergo spesso sono giovani che integrano mentre studiano no però chi come per esempio devo fare io per questioni professionelle tiene d'occhio la piramide di età è chiaro che vede che nel tempo quelle fasce di età lì si stanno restringendo no quindi è evidente che non può che impattare anche su questo tipo di dinamiche del mondo del lavoro il rischio è di avere che i datori di lavoro su tutta una serie di versanti fatichino a trovare in realtà diciamo forza lavoro disponibile senta direttore su questo potremmo aprire naturalmente tutto il tema dei flussi migratori nel senso che le categorie l'hanno riproposto naturalmente in queste ore però io per chiudere perché il tempo è volato con lei le chiedo invece un commento su un altro fatto che ha fatto tanto chiacchierare l'influencer padovana che invece ha dichiaratamente detto io figli non ne voglio e addirittura insomma si è fatta operare perché perché non avvenga di rimanere incinta ecco da direttore dell'Inps ma magari da uomo insomma che impressione l'ha fatto beh è stato un messaggio forte nel senso che ovviamente siamo stati tutti colpiti da questa scelta fatta in un'età anche così anagraficamente giovane io se penso quali erano le mie convinzioni magari a 18 anni a 20 anni quelle che magari avevo a 40 erano molto diverse e c'è il tema dell'irreversibilità delle scelte che è un tema che un po' ecco fa un po' specie perché forse va tenuto in maggiore considerazione se analizziamo il tema sotto un aspetto invece squisitamente previdenziale è importante dare messaggi diversi cioè quello che stiamo cercando di fare anche con la collaborazione per esempio del forum delle famiglie è proprio dare un messaggio intanto che la natalità è bella che la famiglia è come dire l'unità essenziale della nostra società ma che è come dire un investimento che paga anche se è un investimento faticoso che ne vale la pena che ne vale la pena e poi come paese che sostenere le famiglie è fondamentale perché i nuovi nascituri sono coloro che poi prenderanno in mano questo paese sotto tanti versanti e che garantiranno anche il pagamento delle pensioni che oggi lavora grazie allora ad Antonio Pone direttore generale dell'Inps di essere stato con noi di essere stato presente in studio sono sicura che insomma tanti dei nostri telespettatori avranno apprezzato anche le spiegazioni sulle pensioni e su queste novità grazie infinite io chiedo ora alla regia ad Antonio Esposito e a Italo Morao di lanciare il meteo poi torneremo dopo un break di pubblicità con lo spazio di approfondimento dedicato alla CGL a dopo Tremonti attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna ben trovati al meteo l'autunno si fa sentire una perturbazione in transito sul nostro territorio porterà qualche pioggia vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 16 novembre sul Veneto cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto avremo precipitazioni a carattere sparso nella prima parte della giornata poi in diminuzione con il passare delle ore e nel pomeriggio non si escludono anche delle schiarite soleggiate temperature senza particolari variazioni minime tra 4 e 9 gradi massime invece comprese tra i 12 e i 14 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia il cielo sarà anche qui in genere coperto con piogge piuttosto diffuse localmente abbondanti anche intense sulla costa e sul caso probabile cessazione dei fenomeni nel tardo pomeriggio sera temperature minime sui 5-12 gradi massime intorno ai 13-14 all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà per lo più nuvoloso con deboli precipitazioni nevose oltre i 1.800-2.000 metri circa migliorerà poi nel corso del pomeriggio temperature minime intorno ai 4 gradi massime sui 14 all'incirca dal meteo di Antena 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo aggiornamento Tremonti attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna di nuovo in diretta ben ritrovati straordinaria a tre spazio dedicato in particolare al sindacato alla CGL saluto e ringrazio Veronica Gallina buongiorno qui con noi segretaria generale della filea di Treviso per sintetizzare il sindacato delle costruzioni perché riunisce le aziende dell'edilizia del legno eccetera allora settore in fermento grazie anche alle novità portate dal governo vero Veronica edilizia in primo piano poi generalmente si dice se questo è un settore che va bene che traina ha tutta una catena un indotto insomma importante anche per il nostro territorio oggi parliamo delle novità introdotte in questo settore anche per quello che sono la sicurezza il rispetto ambientale insomma la correttezza con cui si deve lavorare e la bilateralità intanto partiamo da quelle che sono le novità più importanti intervenute nel settore edile negli ultimi anni dunque il settore come è stato appena detto è interessato da grandi cambiamenti negli ultimi due anni in particolare in quanto appunto con la spinta della normativa sul super bonus molto è stato costruito e ancora si sta costruendo quindi c'è stato un grandissimo incentivo per tutto il settore questo di rimando anche per gli altri settori interessati a noi ci ha colpito e quindi un aspetto molto positivo che ha ridato fiato a tutto il settore all'indotto e che questo porta sempre benefici anche alle altre categorie di lavorazioni ma oltre a questa cosa positiva data dal super bonus sono intervenute per fortuna si è arrivati a costruire tutta una serie di normative e anche grazie agli accordi tra parti sociali del settore edile e quindi con la contrattazione tra le imprese edili e il sindacato delle costruzioni quindi e i lavoratori si è dato corso a tutta una serie di iniziative normative che disciplinano il settore in maniera più attenta e che forniscono degli importanti aiuti sia per i lavoratori dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e anche le imprese per tutelare le imprese che lavorano bene che rispettano le normative che rispettano tutto ciò che interessa anche l'ambiente e per prevenire la concorrenza sleale di altre imprese che invece non fanno questo per cui una su tutte la normativa che è intervenuta riguardante la congruità la congruità che è in vigore da novembre del 2021 prevede che le imprese che fanno dei lavori edili per poter lavorare devono dimostrare agli enti quali IMSI e alle casse edili di tutto il territorio nazionale qual è per ogni lavoro l'incidenza della mano d'opera sul totale dei costi dell'opera perché cosa cambia diciamo dunque questo è molto importante perché dimostrando certificando anche agli enti quanto è il quanto incide appunto il lavoro il numero dei lavoratori all'interno di una singola opera vanno a dimostrare che l'opera l'opera è fattibile realmente e quindi non ci sono cose nascoste qualche truffa dietro insomma qualche sotterfugio qualche sotterfugio non vengono impiegati meno dipendenti di quelli che servirebbero e tutti i dipendenti che sono in cantiere e nei vari cantieri a cascata che poi interessano la singola opera principale sono un numero corretto per poter eseguire quell'opera quindi vanno a prevenire tutta una serie di fenomeni che purtroppo nel nostro settore specie in passato ma purtroppo anche oggi in certi casi coinvolgevano il lavoro dipendente e non venivano denunciati i lavoratori non venivano applicati i loro i contributi con grandi perdite sia dal punto di vista salariale contributivo per i dipendenti ma anche con difficoltà dal punto di vista della sicurezza ecco Veronica cerchiamo di cerchi di guardare il più possibile la telecamera che così i nostri telespettatori la vedono bene appunto perché lei diceva dall'introduzione insomma abbiamo visto tutti questi bonus per il rilancio naturalmente economico di un territorio provato dalla pandemia forse già da prima però no c'è stato un fiorire di tante imprese c'è stato anche ci sono stati anche molti stranieri venuti appunto a vivere e lavorare qua che hanno dato vita a imprese moltissime serie e anche condipendenti italiani magari in altri casi insomma abbiamo visto anche ultimamente questo dibattito come appunto per quanto riguarda naturalmente le aziende italiane senza fare distinzioni bisogna andare a metterci un po' il naso perché appunto magari sono micro imprese come diceva lei che possono nascondere altre problematiche allora abbiamo detto la congruità per realizzare una data opera occorre dimostrare serietà insomma mettiamola così anche il cliente che vede arrivare due persone per fare un'opera di altro genere si porrà anche un dubbio e poi c'è anche un tema sulla sicurezza se il numero di personale è ristretto posso immaginare che aumentino i rischi ecco prima di rispondere ricordo i nostri telespettatori naturalmente che per quanto riguarda questo settore e questo ramo del sindacato che rappresenta Veronica possono telefonare in diretta al numero che vedete tutti voi in sovraimpressione per porre delle questioni eventualmente allora appunto questa congruità novità abbiamo detto che possono aiutare a migliorare il settore e la sicurezza assolutamente in quanto io impresa seria che lavoro sempre in maniera corretta pago i miei dipendenti li retribuisco correttamente faccio i versamenti IMS e denuncio tutti i cantieri della cassa edile verso alla cassa edile che attraverso la contrattazione fornisce ai lavoratori dipendenti tutta una serie di assistenze in più quindi nell'edilizia i lavoratori hanno il salario stabilito dal contratto nazionale ma hanno anche tutta una serie di integrazioni al reddito come contributi per le famiglie contributi per i figli studenti contributi per l'acquisto e ristrutturazione prima casa che vanno a integrare il reddito e quindi vanno a rispondere alle esigenze concrete dei lavoratori le imprese che fanno questo da sempre non fanno che continuare a farlo perché hanno sempre pagato ciò che aspettava l'IMSS e la cassa edile e semplicemente andranno a fare tutta una serie di comunicazioni in modalità diverse che comunque sono state costruite anche in maniera molto semplificate dopo c'è un po' di dibattito sull'integrazione di queste nuove comunicazioni da fare agli enti tuttavia sono dibattiti che lasceranno un pochino il tempo che trovano che si possono superare assolutamente grazie all'aiuto dell'informatica la cosa veramente da discutere con le imprese a livello nazionale è quello che riguarda l'incidenza della manodopera quindi le percentuali da stabilire per singole diverse lavorazioni ma questo è un dibattito che si fa più a livello tecnico non di singola comunicazione dell'impresa agli enti in psi nelle casse edili quindi assolutamente superabile e con la buona volontà si farà tutto grazie all'informatica quelle imprese che micro o grandi ancora si azzardassero a non pagare ciò che debbono e a non dichiarare anche i costi della sicurezza compresi effettivamente nei lavori che preventivano vanno incontro all'essere man mano esclusi dal settore perché con queste normative se io non sono congruo non posso lavorare a meno che non dimostri in maniera veloce e incontrovertibile agli enti che ho adempiuto pertanto la mia situazione non era congrua oggi in questo momento ma dimostro che è successa una questione particolare una cosa tecnica che mi ha impedito per varie motivazioni che possono essere anche la fornitura di materiali quindi cose o magari che so tre dipendenti che si licenziano in un colpo in quel periodo che ne so lo dimostro sono cose dimostrabili non faccio che comunicare e saldare in maniera veloce con dei tempi stabiliti insomma quello che serviva che fosse saldato in questo modo io sono perfettamente abile in regola in regola e posso operare questo mette in in sicurezza anche il cliente perché chiaramente se io opero con un'impresa che ha poi tutta una serie di lavorazioni successive nell'opera che è congrua e che gli enti gli hanno dato l'ok per operare io vado vado bene mi trovo bene e anche in questo periodo poi che sappiamo quali sono le difficoltà dovute anche al caro energia purtroppo le problematiche internazionali l'approvvigionamento di certi tipi di materie può essere un problema e quindi in genera tutta una serie di ritardi difficoltà certo nell'approvvigionamento nei pagamenti quindi cose che si assumono anche burocraticamente però con questa normativa anche il cliente è messo più a riparo nonostante le problematiche di approvvigionamento dei materiali e dal punto di vista della sicurezza siccome io per essere congruo devo dimostrare di aver corrisposto e di corrispondere a tutto quello che serve ai lavoratori comprensivo dei costi della sicurezza e della prevenzione perché in edilizia è previsto che i lavoratori facciano tutta una serie di formazioni prima di entrare in cantiere e i costi per la sicurezza vanno quantificati e in questa normativa è compresa una volta di più questa materia noi siamo sempre in difficoltà quando si parla di problematiche di sicurezza nei cantieri edili perché non è mai abbastanza l'attenzione sia da parte dei lavoratori ma anche da parte delle imprese il cantiere di per sé è un luogo di lavoro difficoltoso più che non altri luoghi di lavoro perché ha delle dinamiche di organizzazione interna e anche esterna che hanno tante variabili mentre in una fabbrica classica il rischio è molto più standardizzato nel cantiere ci sono punti più imprevedibili e l'attenzione non è mai troppa questa normativa ci viene molto in aiuto noi lavoratori ma aiuta anche le imprese che hanno sempre fatto della sicurezza la loro primaria preoccupazione perché sanno che il dipendente è risorsa per l'azienda e vedono proprio specialmente in questi ultimi due anni quanto sia difficile reperire la manodopera qualificata la cosa era già così devo dire la verità nei tre anni precedenti noi seguiamo tanti lavoratori e incontriamo anche i lavoratori di altri settori con i nostri colleghi c'è un grande movimento nel mondo del lavoro si è generalizzato purtroppo sì sì e quindi dal punto di vista della sicurezza poi ci sono anche tanti altri interventi che sono stati fatti che bisogna continuamente sponsorizzare nel senso bisogna informare i lavoratori informare le imprese non ultimo sono le iniziative che sono state determinate dalla sigla del contratto nazionale dell'edilizia industria che ha introdotto delle cose molto interessanti su cui noi il senacato dei lavoratori delle costruzioni insistevamo da tempo perché vedevamo proprio nella ricerca di una maggiore qualificazione professionale dei nostri lavoratori ma anche nella ricerca da parte delle imprese di personale più qualificato una forma una risorsa importante per essere nel settore e fornire un prodotto e un servizio richiesto certo e finalmente devo dire che con nostra soddisfazione sono state introdotte anche nel contratto nazionale tutta una serie di cose che favoriscono il settore in questo senso per esempio è stato introdotto la carta di identità professionale edile pertanto io deve essere implementata questa cosa però è stata siglata io devo poter certificare tutta la mia formazione all'interno della mia esperienza in edilizia in tutte le imprese in cui io opero questo può sembrare una cosa quasi banale in realtà non è così perché se noi andiamo a chiedere a un qualsiasi lavoratore dell'edilizia nel nostro territorio qual è il tuo libretto di formazione quando ti è stato consegnato quando è stato aggiornato nessuno purtroppo ha una risposta a meno che non si tratti di imprese molto strutturate molto longeve che hanno fatto della formazione interna della riqualificazione un investimento da anni che è già messo a budget cioè loro queste imprese sanno già che per i costi formazione investimenti in formazione nei prossimi cinque anni impiegano questo bilancio ma poi insomma penso che anche investire in questi settori significhi anche aumentare l'affidabilità che si ha il prestigio in qualche modo che si ha presso i committenti dovrebbe essere già se insomma si dimostra lungimiranza certo ci vogliono i soldi siamo d'accordo gli investimenti però con un po' di lungimiranza credo che sempre di più insomma queste siano dei fiori all'occhiello anche dell'eccellenza di queste aziende esatto proprio il centrato il punto e infatti con nostra anche soddisfazione vediamo che le imprese su questo si stanno organizzando stanno anche cercando di capire quale può essere la strada migliore da seguire noi abbiamo la fortuna di aver costituito in tutte le province d'Italia degli enti che si occupano anche della formazione in edilizia sono le scuole edili a Treviso abbiamo le scuole edili anche qui provinciale e all'interno di queste scuole non solo gli studenti che vogliono intraprendere questo lavoro si formano per fare questo lavoro appunto ma viene data formazione continua e anche sulla sicurezza ai lavoratori dipendenti e anche alle imprese stesse perché il settore è particolare quindi serve anche una formazione mirata non è sempre possibile rivolgersi a denti che fanno formazione a 360 gradi e questa parte che è stata siglata nel contratto va a valorizzare anche il ruolo delle scuole edili e attraverso la contrattazione e anche il coordinamento tra le scuole che viene fatta poi anche a livello nazionale e che si sta costruendo anche in questo periodo verrà disciplinata tutta una serie di percorsi formativi diciamo innovativi non sono materie nuove perché a me fa sempre un po' strano dire innovativi quando si parla di recupero dei materiali o miglioramento delle tecnologie perché sono cose che già noi facciamo nel nostro paese e noi nell'edilizia insomma c'è una storia su questo abbiamo una storia abbiamo e anche per non parlare del restauro per non parlare del recupero dei beni architettonici di cui siamo ricchi ricchissimi e che gli altri paesi ci invidiano comunque in questo periodo c'è tutto un fermento di progettazione per fornire formazione adeguata e che sia strumento appunto come diceva per qualificarsi nel settore che diventi una carta d'identità un biglietto da visita in più che le aziende possono offrire al mercato e una volta di più perché tante volte ci rendiamo conto che ci sono imprese nel territorio che non fanno cose incredibili però magari non sono conosciute quindi questo è uno strumento in più per qualificarsi nel mercato e presentarsi ma anche è uno strumento per i lavoratori perché è vero non si trovano non si trovano persone che possano essere con una qualificazione un po' adeguata alle richieste del momento però è anche vero che bisogna strutturare e questo lo si sta cercando di fare attraverso la contrattazione nazionale e anche poi sarà fatto dalle scuole di lì nei territori bisogna anche creare degli strumenti che permettono ai lavoratori di avere una formazione qualificata e che nel contempo possa essere erogata con i tempi e i modi del lavoro in edilizia perché anche questo è un tema da a cui dare risposta sia per le imprese che per i lavoratori ripeto tutti ci chiedono chiedono anche a noi se per caso conosciamo dei lavoratori che possono essere liberi per impiegarsi in nuove aziende c'è un grande fermento c'è una grande necessità e quindi è il momento di intervenire di spingere sull'acceleratore su questo tema ma tra l'altro appunto dicevamo prima è un problema che riguarda tutti i settori questo di non trovare personale in questo momento devo dire che a me capita ogni tanto di vedere le immagini di questi ragazzi della scuola edile sono molto belli è bello vedere quello che una volta si imparava in cantiere adesso si impara a scuola fortunatamente e aver voglia mettersi alla prova e soprattutto sono bravissimi devo dire che escono davvero formati questi nuovi lavoratori non capita più spesso di vedere ragazzi che lavorano con le mani per cui è bello senza dubbio ed è importante che ci siano queste strutture senta ma proprio per il fatto che è generalizzata la mancanza di lavoratori voi dal vostro punto di vista dal vostro osservatorio come vedete questa richiesta delle categorie di flussi magari migratori per introitare mano d'opera regolamentati naturalmente certo è un tema vastissimo lo so però da quello che possiamo vedere noi noi abbiamo conosciuto nel tempo negli ultimi 20 25 anni tante persone che provengono da paesi diversi perché poi in edilizia è davvero uno dei primi settori in cui c'è questo impiego specialmente dall'est di provenienza ma non solo sono anni che c'è movimento da questo punto di vista nel nostro settore chiaramente nel momento in cui io ho lavoro da offrire ho bisogno di personale che sia anche qualificato perché in edilizia non basta più come era forse non è mai stato realmente così ma tanti anni fa un lavoro considerato di manovalanza non è più così da tempo e non lo sarà più se io ho lavoro da offrire qualificato e non ci sono numeri nel territorio le aziende non possono fare altro ma già da questo non è la discussione c'è magari oggi in maniera più accentuata però si ma poi sappiamo che la realtà la quotidianità anticipa di molto i dibattiti politici esatto infatti sono anni che per trovare personale le imprese sono rivolte a personale che proviene comunque da già da tanti anni da paesi esteri quindi non è una novità probabilmente lo sarà sempre di più perché proprio mancano i numeri noi non abbiamo proprio la forza del lavoro se una volta era lasciato al caso all'iniziativa della singola impresa forse appunto questo dicono anche altre categorie dal terziario piuttosto che forse è il caso di rendere strutturale questo ragionamento non solo lasciarlo appunto alla buona volontà all'emergenza alla buona volontà infatti esatto allora Veronica riprendiamo tra pochissimo il discorso chiedo ai colleghi in regia Italo Morao e Antonio Esposito di mandare il break pubblicitario previsto ora e poi torniamo a parlare di edilizia e di novità anche sul fronte ambientale di nuovo in diretta buon pomeriggio straordinaria di Antena 3 siamo con Veronica Gallina che torno a salutare segretaria generale della filea CGL di Treviso vale a dire il sindacato delle costruzioni e stiamo parlando delle tante trasformazioni che hanno interessato questo settore e interesseranno anche in futuro questo settore che poi nei nostri territori nel Veneto insomma ha una storia molto molto lunga anche di imprese storiche che però fanno i conti non solo con le nuove norme ma anche col fiorire di tante piccole imprese in questi ultimi anni spinte dal super bonus eccetera ma non solo allora ci sono sfide future che attendono sia i lavoratori che le imprese e in molti settori la conoscenza di nuovi materiali le normative per la sostenibilità e le nuove tecnologie mi interessava in particolare anche questo aspetto ambientale abbiamo detto anche a livello di rifiuti ci sono delle novità che le imprese devono tenere da conto per il futuro sì assolutamente è un momento di grande fermento di cambiamento dal punto di vista normativo perché il nostro paese sta recependo una serie di direttive che sono state create a livello europeo che interessano tutto il mondo del rifiuto ma non solo interessano anche l'organizzazione del lavoro per quanto concerne la produzione di materiali e vanno a coinvolgere anche tutti quelli che sono gli aspetti riguardanti la cosiddetta sostenibilità perché chiaramente non da oggi ma già da tempo ci si rende conto che svariate problematiche che hanno coinvolto gli struttori produttivi nel tempo riguardo la produzione devono trovare delle risposte le risposte ci sono sia per quanto riguarda l'inquinamento ma il tema che più interessa a tutti oggi chiaramente sono i costi energetici non sono problemi da poco e ci sono risposte anche per queste problematiche e tutto quello che è la produzione e anche la mobilità in futuro cambierà e le normative sono intervenute e stanno intervenendo anche nel nostro paese di questi giorni anche la discussione sul decreto che stabilisce anche nel nostro paese che il rifiuto come lo chiamiamo oggi come lo consideriamo oggi non deve essere più un aspetto della produzione visto come inevitabile bensì il concetto proprio di rifiuto deve cambiare e non deve più esserci ossia l'impianto generale delle normative prevede che venga concepita la produzione a livello di progettazione di ideazione di tutti i prodotti non solo per quanto riguarda il settore delle costruzioni ma anche per tutti gli altri settori già dall'inizio nell'ideazione ci deve essere una idea complessiva di quello che è il prodotto finale che prevede come devono essere impiegati i materiali come devono essere lavorati e poi il prodotto deve essere chiaro come debba come possa e come debba essere smaltito e questo stesso smaltimento non è più considerato il mero fine vita di un prodotto o di un materiale ma diventa una risorsa nuova perché si stabilisce che ci deve essere una la cosiddetta circolarità di cui si fa tanto parlare negli ultimi tempi deve essere stabilito come quello che oggi fino a ieri consideravamo un rifiuto quindi qualcosa di non utilizzabile un costo e un danno poi perché se non viene smaltito correttamente crea un danno alla comunità ma già dalla progettazione si deve poter dimostrare anche qui la congruità la salubrità la sicurezza nero su bianco insomma esatto dare delle informazioni ai consumatori su quelle che sono la fine quella che era la fine quindi il rifiuto oggi deve diventare una nuova un nuovo inizio e quindi i prodotti si devono poter rimettere nel mercato nuovamente chiaramente ci saranno sempre delle parti residuali ma bisogna fare in modo in tutti i settori che le parti residuali che non sono più recuperabili in alcun modo abbiano un impatto ridottissimo il meno possibile perché con i costi energetici che ci sono oggi non possiamo permetterci di andare a utilizzare energia per smaltire il rifiuto se non in quantità minimali è una rivoluzione copernicana quella che ci aspetta anche con questo caro energia devo dire che spinge costringe insomma a a guzzare l'ingegno ecco in questo senso perché magari fino ad ora non si era pensato a quello che è lo spreco metto così magari anche in edilizia non lo so nel senso si procede poi i famosi inerti in qualche maniera verranno smaltiti eccetera invece così giustamente il ragionamento sta a monte anche nell'utilizzo di quanto materiale di per ridurre al minimo proprio questo questo sforzo poi finale assolutamente cambia tutto perché io devo io progettista o comunque io impresa devo già pensare inizialmente a come sarà ogni prodotto che utilizzo come potrà essere smaltito per smaltire bisogna pensare anche a introdurre il concetto in edilizia del disassemblamento cioè io non è che io non smaltirò più i miei inerti da demolizione certo non li stoccherò dentro un posto stabilito dalle normative e andranno a finire lì e saranno un costo bloccato fermo lì per me e per la società certo ma dovrò pensare sempre parlando di edilizia che nel momento in cui io vado a progettare un condominio ipotesi i materiali che metterò per crearlo ma anche poi i seramenti gli impianti tutto quello che serve dovrò sapere già come procederanno le mie maestranze perché possibilmente dovranno essere sempre più maestranze interne che danno questo servizio e quindi che hanno queste qualifiche e queste conoscenze e non più ditte esterne perché il disassemblamento sarà un tema sempre più interno ai singoli settori anche perché poi tornano in casa i materiali esattamente quindi perché io dovrei rivolgermi sempre e solo a ditte esterne che fanno smaltimento in tutti i settori quando devo essere io che so come mi conviene disassemblare le singole componenti per riutilizzarli e in base a come meglio io posso utilizzarli e quindi il concetto di disassemblamento di cui si sta discutendo nel nostro settore e che andrà normato in maniera precisa sempre di più in maniera più definita è un concetto centrale per noi perché nel momento in cui il lavoratore conosce la materia prima conosce il processo produttivo e costruttivo e conosce anche quali sono le modalità per andare a recuperare tutti i materiali o la maggior parte dei materiali che sono stati utilizzati in maniera economicamente vantaggiosa per l'impresa è chiaro che io sono un operatore qualificato che fornisce un che dà la propria opera ed è importantissimo per il futuro dell'impresa se l'impresa non ha questo tipo di figure nel immediato futuro ma già oggi già oggi si pone all'esterno del mercato senta ma siamo pronti a questa rivoluzione qua da noi per quella che è la sua esperienza dunque da quello che noi vediamo ci sono realtà imprese che sono già pronte da un po' quindi sono già avanti assolutamente poi anche in provincia di Treviso siamo fortunati c'è una bella tradizione quindi possiamo essere ben orgogliosi poi c'è una parte vuoi anche per il tipo di lavorazioni che hanno fatto nel tempo che non ha permesso loro di approfondire tutta una serie di normative di cose di questo tipo però ci sono tutte le risorse per diventare operativi a breve all'interno della formazione fornita dalle scuole edili si sta discutendo quale sia il modo migliore per fornire le maestranze innanzitutto questi concetti che saranno dal punto di vista delle normative delle presentazioni generali su quello che è l'obiettivo delle normative chiaramente ma sul far sperimentare in cantieri scuola praticamente come si va a intervenire su questi argomenti quindi come si disassembla come si stocca come si costruisce in maniera in quest'ottica e quindi dal punto di vista della formazione fornita dalle scuole in primis per i lavoratori per gli studenti ci si sta attrezzando su questo le scuole forniscono formazione anche alle imprese pertanto una volta che sarà messo a regime una formazione rispondente in pieno alla pratica che dovrà essere fatta giorno per giorno dai lavoratori per rispettare le normative chiaramente di pari passo anche la formazione delle imprese verrà erogata in maniera utile e rispondente alle necessità del settore quindi è un lavoro che si sta facendo proprio perché poi è entrato in vigore c'è la discussione sulla normativa sul cancellazione del concetto di rifiuto questo sta dando una spinta molto forte a questa discussione e a fare in modo di arrivare sul concreto a fornire esempi pratici anche nella formazione perché poi sappiamo che dall'Europa arrivano degli out-out generalmente più che delle direttive che noi piano 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 fatichiamo in genere a recepire poi ti trovi davanti insomma alla necessità del fatto compiuto mettiamola così però sono anche delle sfide interessanti senza dubbio per andare verso il futuro no queste perché mi viene in mente insomma l'esempio dei mattoncini Lego dico una stupidaggina insomma si costruisce si demolisce si rifà senza dubbio insomma con quello che abbiamo visto in tutti questi anni in tema di famosi buchi neri edifici abbandonati costi di demolizione perché voglio dire anche quando i capannoni sono stati troppi è partito quel gran dibattito su cosa ne facciamo e qualcuno ha detto beh bonifichiamo e demoliamo non è una cosa da poco ha dei costi mostruosi e quindi si parte dal concetto di costruire con buon senso dall'inizio esatto dall'inizio e di prevedere tutto il ciclo vitale di quell'edificio insomma senta poi lei prima accennava al tema della contrattazione in edilizia che interviene per assistere lavoratori e imprese in che modo? dunque la contrattazione tra lavoratori e imprese vuole rispondere a varie esigenze degli uni e degli altri in maniera sempre più rispondente a quelle che sono le realtà odierne noi con il contratto nazionale dell'edilizia abbiamo già fornito delle risposte interessanti dal punto di vista della formazione della certificazione della formazione acquisita nel tempo dei lavoratori dipendenti della formazione alla sicurezza quindi anche qui un libretto dove è stabilito dove è segnato tutto il mio percorso formativo abbiamo abbiamo discusso con le imprese e ottenuto che l'aggiornamento sulla formazione della sicurezza non sia ripetuto ogni 5 anni ma ogni 3 e abbiamo anche convenuto con le imprese che nel momento in cui io vado ad assumere una persona per la prima volta nel nostro settore in base all'esperienza che ha già fatto nel settore certificata dalla Cassa Edile che sono in tutta Italia non posso assumerlo di nuovo come persona che non si è mai vista in un pentiere da zero perché altrimenti di cosa stiamo parlando cerchiamo persone qualificate però poi non le inquadriamo come persone qualificate tanto più che c'è un percorso per pagarle di meno immagino e purtroppo sì quindi si è stabilita tutta una serie di paletti che dicono io ho una formazione ho una esperienza mi vuoi mi prenderai in base all'esperienza che ho fatto mi sembra il minimo insomma questo è dovrebbe essere così però siccome purtroppo in certi casi non è così si è convenuto e anche le imprese stesse perché ripeto le imprese contrattano a livello nazionale ma anche a livello territoriale per fare in modo di far emergere il meglio che ci può essere tra loro e di fare in modo di non venire ostacolati da chi invece opera non si sa come insomma per cui è una tutela per entrambi sia per le imprese che i lavoratori dopodiché sono stati ottenuti anche importanti obiettivi dal punto di vista salariale non ultimo quello del contratto nazionale chiaramente però ad esempio si è proceduto a contrattare portare a termine quello che è il riconoscimento del premio territoriale del settore edile dell'industria che ha visto riconoscere la parte delle imprese stante la grande mole di lavori che è stata realizzata negli ultimi due anni ma già nei tre anni precedenti questo è stato riconosciuto dalle imprese si è arrivati a riconoscimento di tutto il personale dell'edilizia industria nella nostra provincia nella provincia di Padova e nella provincia di Vicenza al premio territoriale che si chiama IVR che i lavoratori hanno ricevuto in una tantum ad agosto e questo è un passo molto importante perché si è stabilito una prassi di contrattazione questa è una una normativa prevista nel contratto nazionale che prova fatta va realizzata nel territorio e con le imprese si è convenuto che questa questo premio di settore venga poi erogato e discusso se ci sono i presupposti chiaramente anche nei prossimi due anni come si era discusso inizialmente quindi nei prossimi due anni i lavoratori potenzialmente riceveranno nuovamente oltre alla paga contrattuale anche un premio di settore proprio per il fatto per il riconoscimento del grande lavoro che c'è stato perché in edilizia non ci siamo mai fermati covid, non covid al netto delle misure di sicurezza chiaramente però abbiamo lavorato tanto poi c'è stato il suo sforzo all'un punto mostruoso con tempi stretti il super bonus eccetera una richiesta il super bonus oltre a quello incredibile una produzione del più 15% a livello veneto per fare dei numeri spannometrici chiaramente quindi le imprese hanno riconosciuto lo sforzo delle maestranze e quindi questa contrattazione che poi si è realizzata anche a livello regionale perché anche nel contratto dell'artigianato dell'edilizia è stato contrattato questo premio quindi anche i lavoratori che lavorano in imprese che applicano il contratto dell'artigianato in Veneto hanno ricevuto il premio di settore ma oltre a questo un aspetto molto importante a cui noi teniamo molto per esempio è quello che riguarda la contrattazione la discussione e l'accordo che c'è stato a marzo dell'anno scorso che ha visto le parti sociali del sindacato dei lavoratori e del sindacato delle imprese concordare una operatività e uno scambio di informazioni tra a livello nazionale che poi doveva essere applicato in tutte le province hanno convenuto che le casse edili e l'ispettorato del lavoro dovessero e potessero scambiare tutta una serie di informazioni a livello territoriale per prevenire gli infortuni sul lavoro ma anche per evitare appunto che le imprese serie vengano ostacolate nella loro quotidianità da chi non è neanche che è un operatore del settore perché abbiamo visto sono nate imprese dal nulla edili che non si sa sulla base di quali esperienze e presupposti possano operare e quindi a livello nazionale è stato deciso questa prassi di condivisione dati e nel territorio abbiamo condiviso con Padova e Treviso le casse edili industriali un protocollo di lavoro e di scambio di informazioni con l'ispettorato di Treviso per quanto riguarda noi e con l'ispettorato di Padova questo è un passo molto importante perché nell'edilizia tutto quello che è comunicazioni dati informazioni comunque ha un percorso particolare non è la stessa cosa che la produzione nel settore plastico piuttosto che ci sono degli aspetti molto particolari e lo scambio di informazioni diventa una tutela fondamentale per le imprese prima di tutto e ovviamente per noi per i lavoratori perché nel momento in cui io comunico alle casse edili quali sono i lavoratori che interverranno in quel cantiere il giorno X quanto tempo ci staranno quante altre imprese ci saranno che opereranno in quel cantiere e in quali tempi chiaramente si dà la possibilità all'ispettorato di poter operare a fare delle verifiche che possono essere utili ai lavoratori e alle imprese e di tutela ma anche alle imprese appunto di tutelarsi perché non è possibile senza dubbio non è possibile che fra l'altro applicando contratti che non hanno nessun senso perché purtroppo nei cantieri prima che entrasse in vigore la congruità di settore che prevede che bisogna applicare il contratto di edile se si fa un lavoro di edile come dice del resto il codice civile e come dice chiunque che un qualsiasi consumatore anche il cliente lo darebbe per scontato però no esatto purtroppo in modo molto più diffuso prima dell'entrata in vigore della normativa sulla congruità in edilizia nei cantieri potevamo trovare lavoratori con applicato il contratto del movimento terra cioè contratti che riguardano l'agricoltura certo che non c'entravano niente insomma senta ma esistono esempi contrattuali simili in altri settori allora sì perché nel tempo la contrattazione è riuscita a dare delle risposte condivise tra aziende e lavoratori per tutelare entrambi queste prassi di contrattazione si sono realizzate anche ad esempio nel settore dell'agricoltura anche lì ci sono degli enti bilaterali che vedono la presenza di rappresentanti di lavoratori e aziende che discutono di quelle che sono le dinamiche del settore di quali sono le risposte da dare e anche per fare un ragionamento ancora più ampio ad esempio nell'artigianato c'è una prassi consolidata di contrattazione che nella nostra regione coinvolge addirittura tutti i settori per cui nell'artigianato esistono delle assistenze date a imprese e a lavoratori per integrare il reddito ma anche per rispondere alla necessità di formazione piuttosto che di conciliazione tempi vita e lavoro a tutti i dipendenti che ne hanno diritto in base a certi presupposti chiaramente di tutte le lavorazioni per cui chi lavora nella plastica del contratto artigiano chi lavora nella metalmeccanica chi lavora nell'alimentari in tutti i settori potenzialmente possono trovare delle risposte sia i lavoratori che le imprese e sono il frutto di una contrattazione che ha fatto in modo di dare le risposte e bisogna che venga anche esercitata e fatta conoscere di più perché purtroppo ci rendiamo conto che magari nelle realtà molto piccole nonostante il fatto che noi abbiamo degli sportelli in tutta la provincia sempre aperti che possono per una prima informazione per un primo accesso anche a chi non si è mai avvicinato uno sportello dell'artigianato possano dare delle informazioni senza nessun vincolo particolare però ci rendiamo conto che nella nostra provincia ma anche nella nostra regione molte di queste cose non sono ancora ben conosciute dai lavoratori parlo poi per le imprese probabilmente anche lo stesso e questa cosa va diffusa molto di più perché nel momento in cui io posso oltre al salario integrare il mio reddito con delle assistenze per le borse di studio dei figli a scuola piuttosto che delle spese mediche che mi vengono rimborsate nel momento in cui faccio delle visite all'ospedale pagando un ticket è bene che vengano conosciute perché in questi tempi di particolari problematiche ristrettezze spese energetiche bollette che andremo ad affrontare e su questo ci stiamo un po' cercando ad attrezzare un po' in tutti i contratti per esempio nella contrattazione a livello regionale si è deciso di dare una risposta a questi a questi problemi e viene erogato sulla base di un reddito particolare chiaramente non a pioggia ma viene erogato un buono che vuole rispondere vuole essere una prima risposta al caro bollette per cui attraverso la contrattazione i lavoratori possono ottenere delle tutele che senza contrattazione sarebbero lasciate alla fortuna di capitare in un contesto oltre a quelli predisposti dal governo diciamo parliamo ecco sono proprio il frutto di una contrattazione territoriale esatto che a livello regionale ha deciso di stanziare un buono per le bollette alle famiglie che ne facciano richiesta se sono dipendenti di imprese artigiane interessante molto questo è molto importante chiaramente non risolve i problemi che avremo come famiglie non tutti ma insomma magari fa passare un Natale più sereno magari sì o pagare una retta anche di una scuola insomma certo potremmo fare una bella lista di cose da pagare ce ne sono molte il tempo è terminato mi sarebbe piaciuto chiederle cosa ci fa una donna a rappresentare un settore così maschile come l'edilizia ma ne parliamo un'altra volta magari ci sono anche tante lavoratrici io non conosco questa realtà però non ho tempo di chiederle ce la teniamo in saccoccia per la prossima volta io ringrazio Veronica Gallina segretaria generale della filea CGL di Treviso sindacato delle costruzioni abbiamo sentito tante cose nuove che interessano sicuramente anche tutti i telespettatori che magari devono far fare dei lavori poi in questo periodo sappiamo come va ringrazio in regia Antonio Esposito e Italo Murao per la collaborazione ora la pubblicità naturalmente domani come sempre alle 12 tornerà lo spazio di metà giornata insomma dedicato da Antena 3 a moltissimi temi e la prossima settimana come sempre la CGL arrivederci a